sono partita siamo dal vivo buonasera buonasera a tutti quanti come vedete non so se vedete vedete un foglio bianco perché mi sto preparando per questa diretta quindi ho fatto un po di punte alle matite più che altro stavo cercando una confezione una bustina con le mie matite diciamo quelle che mi porto dietro quando vado in giro però siccome c'è una grandissima confusione qui dentro non la trovo non che mi manchino le matite c'è no qualche chilo però volevo utilizzare anche per fare un po di punte alle varie cose così infatti prende anche un po d'aria diciamo però non riesco a ricordare dove dove ne ho appoggiate siccome qui dentro c'è una grandissima confusione ciao perché un po di gente saluta ciao gianni ciao che che come io ciao fabio saluto a tutti saluti che avete fatto di bello oggi è fatta andare un po fuori o siete rimasti chiusi in casa come fanno in tanti io oggi sono uscito e anche senza permesso non ho firmato l'autocertificazione perché non la trovavo ma ho dovuto fare soltanto poche centinaia di metri giusto per portare perché voi avete visto il video di lella vero pizza pane e focaccia ci siamo fatti una buzzata però siccome noi siamo anche magnanimi oltre che magnoni che abbiamo fatto di bello abbiamo fatto cambio come succedeva ai tempi del baratto dei baratti e noi abbiamo fatto proprio questa cosa abbiamo preso invitando un po di gente a partecipare alla nostra chiacchierata e come dicevo dato per aspettare un po che arrivi qualche altro amico e lella oggi ha fatto un video voi non l'avete ancora visto perché è in preparazione appena poi saremo pronti però oggi ha fatto pizza pane e focaccia in campagna siamo ancora in quarantena ma anche lui siamo in quarantena più che in quarantena ciao paprizio ciao fausto se rimanete fino alla fine c'è una bella notizia che poi vi darà bella bella non lo so c'è una diciamo io sono pronto aspettiamo altri altro pochino siamo in anticipo va beh non la trovo questa busta è una busta grossa così va bene poi la troverò allora come dicevo che finire il discorso però ne comincio sempre diecimila non ne finisco mai uno dicevo che Lella oggi ha preparato questa cosa e poi l'abbiamo insomma condivisa con gli amici come mai non è a fuoco? forse perché c'è poca luce no è proprio sfocato vediamo un po' no è un po' fuori allineamento dai che ci siamo e quindi dicevo ho preso un po' di questi panini e li ho portati ai nostri amici che stanno qui no perché bianco ecco perché è sfocato allora prendiamo una cosa colorata una cosa colorata ma infatti mettiamoci guarda questo qui è sfocato è stranissimo forse poco segnale quindi voi come vedete vedete sfocato questa è una è una piccola un piccolo contenitore dove ci tengono un po' di roba ma non è quello che cercavo questo qui è un altro Gianni Fusini vede benissimo vabbè noi dal monitor vediamo sfocatissimo si fa un po' di sfocatura si vede un po' così cosa insomma per farmi finire questo discorso che sennò poi me lo porto fino a stasera poi non ci dormo niente abbiamo fatto cambio per la miseria con questi panini il baratto eh si il baratto il baratto con un baratto a proposito vedi lo manda al cartoro la diretta e appunto ci siamo scambiati panini con cipollotti in agrodolci una bontà qualche giorno bisogna che gli dica che se ci viene a fare una lezione di agrodolci che fa delle melanzane nicidiane buonissime poi ecco l'olio uno strano peperoncino di quello fatto in casa ma insomma va bene adesso abbiamo già mangiato quindi siamo tutti a posto questa cosa è una b una due b a questa cercavo audio perfetto e vediamo bene ok mi fa piacere che io vedo veramente sfocatissimo sul monico ma vabbè non è importante ok possiamo dai dai si da mangiare è sempre da mangiare oh ma hai detto che volevi sentire del coso come si chiama del limoncello con chi ce l'hai ecco Fabrizio no loro non sono no non è Fabrizio c'è anche Alfia ciao Alfia ciao a tutti è scritto Roberto Reni ciao c'è anche Rossella Graziosi c'è Maria Rosaria La Rosa ciao eccolo qui Fabrizio si vede bene oh Fabrizio allora ce l'avevo con te prima no ma gli ha risposto ho detto che non mi garba il limoncello ecco vedi te l'ha detto lei quindi non mi garba vuol dire se garba lui a me non garba quindi non si fa ma qui non c'è verso eh ragazzi sapete dove funziona ha detto di no e quindi no eh quindi niente l'alcol me lo beherò così a 92 gradi senza niente non esiste no figuriamoci piuttosto allora no di nuovo fame no no basta io sto esplodendo perché poi esagio di quando la fa non è che fa una mezza cosa no le fa proprio belle ripiere grasse proprio la festa di trigliceridi c'è va bene vi lascio lavorare dai si e che è successo è morto? ma che ne so vai stand by sto cellulare come mai? non lo so io già lo vedo un film poi se mi fa pure ah c'è anche Cristina e Andrea si la crema di limoncello mi piace si mi piace ma poi mi manca la panna cosa ti manca? mi manca tutto quindi non si può fare però un po' di limoncello allora figuratevi ragazzi intanto siamo in tema fino a qualche anno fa c'era un nostro amico che è tuttora vivo e c'era ma c'è ancora nel senso e Fiorentino fra l'altro che anziano anche lui un bravissimo scultore ceramista ma veramente bravo e anche abbastanza famoso però insomma non facciamo nomi e cognomi anche se dovrei chiedergli permesso comunque vabbè il fatto è questo qui che veniva qui da noi a prendersi le noci quando era il momento del nocino quando era il maggio quando era il periodo questo più o meno grossomodo se che veniva qui da noi oh si è bloccato ah no no adesso io stavo fermo io strano e niente veniva qui a prendersi le noci perché io ho un noce venuto da sé non lo so però è diventato enorme vabbè dai chiacchiera poco e disegna vabbè ragazzi quella storia del nocino poi vi racconto un'altra volta ciao Luciano Gaspare ciao 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 Francesco ciao ogni tanto toccalo il telefono perché gli ho messo mezz'ora di inattività però sai mezz'ora l'alco fa fare magia addirittura ti fa andare via anche il mal di mare tanto è vero è vero sì i marinai è vero allora c'erano due sistemi per non farsi dire il mal di mare allora uno era prendere una prugna e metterla sull'ombelico no così le vecchie storie e leggende di marinai quelli veri quelli affrontavano capo orne con i denti e a morti praticamente e poi invece era quello di imbriacarsi praticamente e quindi passavano capo orne senza nemmeno accorgersi e un altro di quelli che andava il portico con l'alcol è stato Sir Francis Dolordici il famoso navigatore che fece il giro del mondo ecco vedi parliamo di queste serie Carlo Patrini dice cosa farai questa serie parlo allora niente allora dicevo oh non ho bevuto eh quindi non c'è allora facciamo un po' ogni tanto mi vengono mandati dei disegni qualcuno anche fatto discretamente colorato bene però un po' storto diciamolo sì dai perché alcune proporzioni non sono proprio fatte bene preparate in qualche modo poi dici del nocino il nocino è semplice l'ha finito così finisci quella del nocino veniva si prendeva le noci se le sceglieva perché insomma è tutto quando è che di giugno non mi ricordo maggio giugno grossomodo no era giugno però c'è una data precisa San Giuseppe San qualcosa allora di San Giuseppe non lo sappiamo va beh adesso non mi ricordo era giugno e quindi niente veniva qui si sceglieva le sue noci e poi dopo un po' ci portava ma quant'era 200 grammi di nocino ci portava via una cassa di noci però ci portava 200 grammi di nocino che fra l'altro era buonissimo però ma ne prendeva tante di nocino eh 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 insomma vai comunque ne prendi ne prendi in chiave dai via su diciamo allora scusate tutto qui tutto qui niente è che al solito sempre poco una volta l'abbiamo assaggiato no 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 qualche volta l'ha portato sempre però confezioni mignon allora dicevo la cosa più semplice allora ci beviamo una bottiglia di nocino mentre doppiamo capo horn eh nocino si bevevano di tutto si bevevano avercelo avuto il nocino allora se dobbiamo fare qualche cosa allora aspetta mi sa che qui non si vede un tubo io non vedo niente da questo eh lascia perdere non so se è questione di no loro dicono e vedono bene vai tranquillo a te non ti preoccupare va beh allora c'è questo Gaspare che chiede dove dice in questo periodo quarantena non ha colori a casa come posso realizzarli eh dipende che se non c'è niente non so se vive al quinto piano la vedo un po' brutta però se stai a Pianterino c'è un piccolo giardino ma la peggio puoi usare così eh faccio per e tinge e farai roba tipo e cosa ci fa col giardino? no 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 aspetta aspetta se stai a quinto piano usi il caffè o un'altra cosa anche il vino va benissimo eh il nocino ancora meglio però perché qualsiasi cosa che colore lascia una traccia va benissimo certo non ci puoi fare un colore a olio questo è palese però se vai giù in giardino c'è la terra quindi puoi prendere le terre le puoi macinare impestare le puoi cuocere però insomma naturalmente è vero si fa così però a fare umbra umbratio ciao a tutti Diego eh non lo capisco eh forse è un baratto forse vuole scrivere non lo so non lo capisco vabbè comunque questo è e quindi ecco se non c'è colore ciao Francesco ciao Francesco gli ho mandato oh ciao ciao Francesco spero vada tutto bene dai speriamo bene via ok quindi con dei pigmenti si pigmenti pigmenti un po' di olio di lino oppure si un po' di olio di lino o gomma gutta insomma quello che hai e te lo impasti via torniamo al discorso di disegni che ti mandano si disegni a volte mi mandate dei disegni fatti bene cioè graficamente però sono fuori prospettiva sono storti hanno degli errori banali che rendono il tutto come posso dire sgraziato anche se poi nell'insieme sono fatti bene hanno dei piccoli errori a volte si vedono un bicchiere che è storto una bottiglia che pende da una parte casomai non starebbe in realtà non potrebbe stare non so se si vede la dai se ti metti a leggere e poi non leggere allora quindi dicevo la cosa buona è cominciare a disegnare in una maniera adeguata da mettere su un piano quindi qualsiasi cosa si faccia è sempre bene è sempre bene partire da elementi diciamo sì geometrici per cui ah intende non sa se si vede la matita ce l'hai è un po grossolana usa una 3b una 4b questa via è una 2b ma questa è una b no il problema è questo qui perché lo so che la matita è sempre una fregatura lo so che il problema è così che se faccio il segno marcato poi quando vado a togliere le linee diventa un perché la prima traccia si fa sempre di solito con una matita abbastanza leggera una traccia no quindi come dicevo si fa ecco vedi guido piccoli ci ha detto che se le noci si raccolgono entro il 24 giugno che il battesimo di giovanni battista c'era un san giovanni non era san giuseppe si ricordiamo non era san giuseppe si era un santo però mi ricordavo il 19 però io mi ricordavo si trova a fare un tratto dai vediamo se si vede l'ho fatto però si vede pochissimo Fabrizio dice che usa la 4b infatti gli ho detto si ma io sono anche la 8b ma non è problema è che se faccio un tratto poi grosso poi non lo tolgo più perché a farlo lo faccio aspetta guarda se mi si vede non è che non ho matite però si vedeva anche quello di prima è piccino questa è una 3b no no basta non andare ora il problema è che se poi devo cancellare dovrà essere fatto insieme vabbè d'accordo via poi si guarderà ok allora tracciamo prima dei delle forme geometriche e poi intorno a questa forma geometrica possiamo lavorare quindi facciamo in questa forma geometrica ce ne mettiamo un'altra vedete questo è un quadrato questo è un rettangolo ce ne possiamo mettere allora prova la matrizia e poi dici che devi vabbè e poi in caso mai faremo cambieremo un foglio non lo so e quindi abbiamo già una delle forme in queste forme facciamo in un'altra tea così abbiamo diverse possibilità di realizzare un qualcosa ok ciao maria beatrice ciao maria ciao allora si è ripresa si ho passato la dai stanotte mi sentirò male io perché ho mangiato la pizza non ho una eh bene faccita allora la cosa da fare è intanto tracciare una metà di questo nostro disegno geometrico ok così abbiamo già e poi e poi non so adesso è di fantasia per cui diciamo che questo qui è un vaso ok allora la metà diciamo che questa è la pancia la parte più larga e quindi se questa è la metà diamo delle proporzioni ci allarghiamo ok poi al solito decidiamo qual è la parte bassa e questo è il nostro vaso ora però il problema che si è visto di faccia va benissimo anche così però si è visto leggermente con una linea di orizzonte leggermente più alta queste zone qui queste parti circolari non sono piatte come si vede adesso ma saranno circolari ciao Claudio saluti da Roma e quindi queste parti qui saranno circolari ok se sono sotto l'orizzonte la linea degli occhi diciamo sì queste qui saranno circolari ok se invece saranno sopra avranno sempre circolari però con una linea rovescia quindi la parte questa parte curva sia sopra sia sotto sia al centro sono tutti uguale ok quindi ora il problema è che non si può cancellare e quindi queste parti qui sono simili ecco ora il problema è che non si può togliere e quindi qui è tondo non vanno fatte con le punte queste zone sono circolari quindi non vanno fatte come se fossero una freccia ma sono circolari così ellittiche ellittiche ok perché se le fate così non vanno bene scusate ma Luciano e la geometria sì la parola l'ho sbagliata quindi non devono essere non devono mai finire con le punte mai è un errore abbastanza grossolano nessuno vi darà gli schiaffi sulle mani però già vi presentate in una maniera insomma cioè così un po' aleatorio un po' ecco invece tondo deve essere tondo ok e qui ci avete la vostra quindi scendendo ce l'abbiamo qui abbiamo due linee un po' alla ribardina se non si capisce bene poi ecco qui allora tornando un po' a un disegno un po' più umano ecco io vi lascio se hai bisogno mi fai un ecco qui mi chiami va bene cambiamo foglio perché è venuto tutto un po' così ecco allora facciamo un po' più a modo allora questo qui e io così non riesco a lavorare bisogna che mi inclino che sennò non mi viene allora ok questi qui sono gli ellitti gli ellissi si scende e viene un po' male così scusate ma sto facendo un po' un lavoro fatto malissimo allora perché si disegna male così in piano allora questa linea qui dicevo deve essere uguale a questo qui questo arco è uguale a questo qui ho messo una matita sbagliata quindi ecco così si vedeva anche la tua P se vuoi eh si si vabbè ormai l'ho cambiata quindi se vogliamo fare un bordo ecco tagliamo il nostro disegno che in partenza è comunque un rettangolo ok è iscritto in questo rettangolo Roberto Reni diceva perché hai detto che domani mettiamo il video della pizza stasera lo finiamo poi domani può essere domani può essere sì allora questo qui ora poi ecco non credo che ce la facciamo per domani ma comunque si guarda come vedete ora eh questa parte qui è simile a questa hanno lo stesso la stessa ellissi ok poi ve la potete naturalmente lavorare come volete se decidete che qui è la parte più larga ve la portate qui e la stringete poi sotto quindi vi portate ecco e questo qui è il vostro bicchiere lo ripulite ecco qui e avete il vostro bicchiere il vostro vaso dipende da quello che state rifacendo ecco l'importante è che queste linee qui siano uguali perché se no correte il rischio che vi venga tutto un po' storto ma naturalmente se ci volete fare qualche cosa intorno che so io un fiore una foglia stessa cosa se ci volete fare che so io facciamo ecco dovete considerare le ombre se un'ombra luce di qua quindi l'ombra queste parti qui saranno in ombra molto oscura e qui piano piano chiara qui la proiezione dell'ombra sarà verso questa parte ombra ombra di questa di questo frutto può essere una mela pera un uovo quello che volete che sia se ci volete fare uno straccio la stessa cosa l'importante è che abbiano queste curve abbastanza simili ok non dovete fare un lavoro in prospettiva però che abbiano la stessa inclinazione se no vi trovate casomai con un bicchiere che sembra che si rovesci con l'acqua all'interno oppure che non appoggia bene sul piano quindi devono avere una solidità anche se volessimo fare una bottiglia qualche cosa la iscrivete in un rettangolo decidete dove fare la parte più larga quindi scegliete il vostro ora qui non si vede perché c'è questa però ammesso che non ci fossero possiamo dargli questa inclinazione e qui lo stesso e quindi abbiamo questa bottiglia in questa maniera ok ora non si vede naturalmente che ci ho messo davanti queste due ecco qui attenzione a queste inclinazioni qui perché sono quelle che fanno la differenza tra un disegno fatto alla meno peggio e uno che ha una sua validità così prospettica al solito considerate sempre le ombre allora e anche qui poi faremo un video un pochino più preciso sulla sulla teoria delle ombre in quanto in questo caso per esempio sarebbero utili avere delle luci così non solari sono delle luci artificiali per cui possiamo organizzare una certa maniera anche uno o due perché con la luce solare la provenienza è sempre una invece con le luci elettriche naturalmente le possiamo disporre e quindi avere anche luci diverse quindi avere delle inclinazioni la partenza è unica qui il sole è uno solo quindi e hanno tutta una certa inclinazione e quindi di conseguenza anche le ombre poi ne faremo casomai una lezione un pochino più approfondita un pochino più precisa questa è giusto un'idea alla grossa però comunque le ombre vanno tenute in considerazione che sono quelle che poi danno la forma agli oggetti la luce dell'ombra di solito funziona così alla grossa luce ombra luce ombra e quindi dove c'è la luce da una parte c'è l'ombra da quell'altra naturalmente è una cosa generale quindi se questo proietta ombra su questo qui c'è luce ombra luce ombra e via così e qui la stessa cosa questo probabilmente è in luce non c'è ombra particolare però qui si e qui a terra uguale lo straccio la stessa cosa gli diamo un movimento non lo facciamo se fosse una cosa buttata a casaccio diamogli sempre una certa morbidezza in modo da poterlo poi dipingere in modo più appropriato questo lo togliamo un po di linea perché le linee sono sempre un po fastidiose ciao lina ciao naturalmente nella ides non lo so carlo deve avere qualche problema con la testiera non so cosa ides una finestra punto interrogativo però non so di cosa parlavate una finestra cioè la luce che proviene dalla finestra certo in certi casi la potremmo anche assimilare a una luce diciamo artificiale però al solito bisogna vedere anche come posizionato la nostra composizione buonasera Emanuela naturalmente questo essendo tondo quindi ci sarà una luce qui molto leggera ombra leggera che scurisce man mano che segue un po il bordo perché secondo l'ombra che li facciamo riusciamo anche a dare lo spessore a questi a questi manufatti ok questo allora ciao Sergio ciao allora un'altra cosa che si potrebbe far vedere allora una composizione un pochino più sempliciota facciamo la mettoni traverso perché mi torna meglio fare i cerchi se no così viene un po male abituatevi anche voi a lavorare un po di traverso diciamo che riuscite a fare un lavoro più ordinato anzi facciamo una cosa più ancora più simpatica facciamo una cosa che potete in qualche maniera anche sfruttare per una vostra composizione allora facciamo una prendo un foglio un pochino più questo vediamo questo allora leggo qualche cosa allora sì naturalmente questi sono non sono fatte come se fosse un lavoro geometrico preciso con no è stiamo parlando di qualche cosa di artistico se no se andiamo a prendere tutte le circonferenze riporti a dio diventa una cosa tutta un'altra storia quindi ora facciamo una composizione più allora vediamo un po' alfia dice domani provo a farlo bene allora qui ci facciamo il nostro ciao giacomo ciao io spolerizzo che domenica verso le 5 ci sarà un appuntamento particolare poi vi dirà qualcosa luciano più tardi però volevo dirvi chi non è iscritto e quindi non può non può partecipare nel senso non può scrivere iscrivetevi e mettete cliccate sulla campanella così arriva anche il messaggio quando luciano si connette perché per gli iscritti e quelli che saranno presenti alla diretta di domenica alle 17 ci sarà una sorpresa che lui dirà ora a fine ma vabbè posso anche anticipare io lo vengo a ripetere perché poi c'è chi si connette quindi lo dico in diverse volte anche per quelli che saltellano dopo quando lo guarderanno abbiamo fatto una tazza abbiamo fatto questa ellissi ce la siamo lavorata più o meno qui la stessa cosa con questo ellissi inutile farla tutta qui non si vedrebbe comunque ecco l'ellissi è questa qui e qui scende un pochino sono troppo alto vabbè qui ci facciamo anche fabrizio proverà a farlo poi una sfera chiede fabrizio 27 mila e una sfera in che senso forse c'era per il vicino non lo so intende quello non lo so non lo so una sfera non so forse c'è qualche domanda prima che non ho letto controllo no c'è barbara deluca che chiede sembra facile il disegno ma non lo è bisogna considerare la simmetria le simmetrie le ellissi per dargli un effetto 3d molto interessante come sempre si dicevo non stiamo facendo un disegno tecnico è un disegno artistico per cui ci saranno sicuramente delle cose che non sono precise ma a noi interessa che sia verosimile non vero ecco per cui ci può essere che non è proprio che è successo arrivata qualche messa allora e ci possiamo mettere il nostro solito frutto l'importante è che abbiano proporzioni adeguate e che siano poggiati a terra non che siano tutti storti che non sembra che gli oggetti siano posizionati malamente o che siano proprio strani quasi impossibili ecco per esempio se ci volessimo fare un lento qui una frutto una mela un arancio quello che è ecco che siano come possibili queste cose ora leviamo un po di linee il problema è che quando si fanno disegni poi se si fanno con una con una matita molto grassa non si toglie più niente poi rimangono queste tracce un po un po fastidiose però ecco il bello di questi disegni appunto la particolarità non sente mai la campanella alzio a mi sembra che tu mi hai mandato il tuo numero di cellulare dai la prossima volta ti mando ti mando il link con whatsapp così quello whatsapp tanto lo sentiamo tutti ecco qui ci mettiamo un'altra un'altro frutto e qui questa base deve avere la stessa inclinazione di questa non dritta deve essere inclinata qui ci facciamo il nostro manico ci facciamo un po di spessore secondo come è posizionato il nostro vaso e al solito se qui ci vogliamo fare un bordino che è comodo perché ci dà subito una una cosa solida ecco e qui lo riportiamo giù e lo rifiniamo vogliamo fare un bordo anche qui l'importante è che abbia sempre la stessa inclinazione non fate le cose e questi qui non devono mai essere a punta non devono mai finire a punta ma devono essere sempre diciamo circolari questo chiede se li fai vedere anche come fare la base come fare il tavolo dove poggia tutto ecco questo è un tavolo in prospettiva perché dovete fare sempre conto come se fosse la vecchia prospettiva che avevamo fatto no ricordate punto di fuga qualsiasi e tutto è in relazione a questi punti di fuga e quindi tutto è iscritto in questa zona qui e di conseguenza anche il tavolo un tavolo più lungo un tavolo più corto e quindi però in questo caso senza fare una costruzione complessa che diventerebbe poi fastidiosa perché è troppo complessa per fare un disegno semplicissimo che poi in questi casi quando avete dei dubbi diciamo sì ma l'avrò fatto bene sarebbe sbagliato allora fate una cosa diciamo non proprio ortodossa però ecco per salvare un po' la faccia fate un po' così ecco ci create che so io una bella foglia davanti e riuscite in qualche maniera insomma a rufianare come si dice il vostro disegno quindi ci fate il vostro fiore qui quello che ci volete e quindi in qualche modo riuscite a coprire qualche così incognita qualche momento di sarà giusto sarà sbagliato ecco qualche dubbio che potrebbe però ecco siccome sono cose abbastanza minime riuscite facilmente a comprendere la meccanica la dinamica di queste piccole cose ho detto che non sono cose da riprendere è il tavolino ecco qui il tavolino come dicevo ve lo riportate naturalmente un minimo di attenzione che non sia il tavolino non lo fate che parti da qua su o che c'è un'inclinazione particolare se no si creano degli scompensi che abbiano sempre una certa quando fate queste cose fate riferimento a un punto di fuga ideale non lo dovete fare per forza anche perché difficilmente farete una natura morta che avrà degli sfondi molto lunghi che solo può essere che questo ci volete fare qualche cosa ci farete una sedia oppure ci farete una finestra aperta ecco non farete grosse cose molto particolari che vi creeranno problemi di prospettiva quindi ecco alla peggio ci farete che sono una sedia quindi una sedia ecco con lo spessore del legno qui del poggia schiena ecco qui adesso non si vede vabbè non è che si deve sempre vedere tutto eh ecco questa mia sedia per cui ecco vi potete in qualche maniera ritrovare ecco qui adesso ci abbiamo fatto questa cosa di di prospettiva ci potete fare una tenda e quindi qui già ritrovate uno sfondo particolare o se no un pezzo di finestra quindi ci trovate un punto di luce quindi la luce ve la fate entrare di qui casomai e avrete tutta la vostra ombra che si proietta in questa parte o se no se non volete fare il tavolino perché vi ha problemi volete dare un po di dinamismo al tutto come detto prima prendete e ci fate un bello straccio uno straccio che insomma una tovaglia che scende qualche cosa che possa ecco riempire in qualche maniera questi spazi poi se volete essere più sofisticati e abbastanza semplici cominciate a farci una trama di che so di quadrati di cerchi floreale insomma qui poi la vostra fantasia è quella che verrà messa alla prova e riuscirete a fare qualche cosa però l'importante è che siano queste zone qui da mettere a punto perché se sbagliate questi punti qui vi troverete poi a fare delle cose un po strane casomai lì per lì non ve ne accorgete ma chi li guarda si accorgerà subito che c'è un qualcosa di che non torna nel modo giusto ora qui quando fate poi le mele le pere o quello che sia non le fate come se fossero delle cose perfette quindi fatele un po non dico a così proprio a caso però ecco dateli già una forma non proprio perfetta ecco quindi dateli già la sua connotazione quindi riuscite anche poi con queste malformazioni della frutta a dargli una sua particolare fisionomia quindi potete dare l'avvallamento la luce l'ombra e quindi ritornerà subito una maniera più plastica ecco come dire qui naturalmente se ci fosse la luce è tutto un gioco di di luci e ombre che vi potete naturalmente divertire a completare in qualche modo qui come detto c'è il bordo di questa questa zoppiera e ve la fate un po come volete qui la stessa cosa ci abbiamo fatto un arancio una mela quello che volete fare al solito considerate la luce e qui ombra questa zona di tutte in ombra le ombre devono prendere una parte del colore della vostra diciamo del soggetto se questo è il rosso una parte di ombra sarà rossa quindi ci sarà rosso bianco cercate di non usare il nero però scurite ecco attenzione non fate bianco e nero ecco non usate colori strani il nero non è proprio il massimo ecco naturalmente una cosa importante è anche le ombre dei vari oggetti che ci sono ad esempio che ho fatto dei fiori quindi ci può essere il caso che qui ci sia un'ombra di questa di questa foglia quindi casomai ci dovrebbe essere luce però voi ci fate un po di ombre perché effettivamente casomai siccome non è incollata al vaso non è che deve essere non è che deve partire proprio da qui sotto ma è leggermente spostata vedete qui l'ombra non è che parte dalla mano adesso non so se si riesce a notare ma è spostata per cui dovete considerare la differenza e qui la stessa cosa non è che l'ombra parte esattamente da dove finisce la foglia dategli un minimo di spostamento se c'è qualcosa che luigi luigi è quello che sta in inghilterra emma ha appena detto che sei divertente come che c'è il volume qui scusate deve essere arrivata anche un qualche in un qualche si ci siamo un attimo disconnessi eccoli che ecco allora io ci siamo riconnessi scusate c'è stato un piccolo problema tecnico avevo chiuso whatsapp ma se è arrivato ora io poi non riesco a leggere benissimo e quindi se saluto tutti così in gruppo è qui al solito come detto prima probabilmente le ombre che riescono a scavalcare il bordo e quindi ci saranno delle ombre che sono riportate qui sotto e ci si può sbizzarrire a cercare qualche ma voglio ripetere perché è arrivato ora che domenica alle 5 faremo una diretta particolare a domenica alle 5 me lo segno perché io mica lo so è lei che decide io sono il solito domenica alle 5 me lo segno si vabbè ora me lo segno ora me lo segno vecchia eh domenica domenica ore alle 17 17 diretta e ci sarà una sorpresa chi non è iscritto e ci sta ascoltando si iscriva ok clicchi sulla campanella così arriva il messaggio vale eh non lo leggo non lo leggo non si legge sì dai no non si legge vabbè non si legge vabbè allora dicevo ehm via facciamo un po' di punta Antonio D'Urso ci chiede buonasera maestra come posso contattarla volevo farle qualche domanda sul ferro cemento c'è la mail è luciano cavaliere 7 chiocciola gmail.com oppure la leggi anche da sotto questo video sul ferro cemento perché qualche giorno fa qualcuno mi ha chiamato su chiamato ho fatto qualche domanda sul ferro cemento non lo so facendo vedere domande sulla pericolosità del cemento io ho risposto in maniera un po' così un po' sarcastica dicendo che se uno ha paura di usare 3 kg di cemento forse no no Loredana è costata colpa mia che ho bloccato perché l'ho messo in pausa ma sei ripreso sei ripreso e quindi dicevo che il cemento come tutte le cose è tossico anche se andate nel deserto e respirate la polvere del deserto o al mare la polvere del mare cioè della spiaggia è tossica c'è il silicio vi viene la silicosi quindi non andate al mare è pericoloso però no faccio per dire è la stessa no non eri tu e no sennò lui aveva la merda va scritto sulla merda no no facevo perché a volte diceva ma è così pericoloso perché vengono i tumori ragazzi io una cosa che non faccia male la devo ancora trovare la mia nonna diceva no la cioccolata dice che invece faccia bene per altri motivi ma insomma la mia nonna diceva le una cosa che fanno male sono gli schiaffi poi naturalmente era una povera donna Fabrizio è trent'anni che ci lavora sì ma infatti cioè non fa bene intendiamoci ma una cosa è fare una scultura in ferocemento non parlo di questo ragazzo come ha chiesto facevo un discorso in generale una cosa è fare una cosa in ferocemento vi userai 3 4 kg di cemento impastati immediatamente nell'acqua luciano cavaliere 7 scritto al numero chiocciola gmail.com ma sotto i suoi video se apri la freccetta da cellulare apri la freccetta c'è proprio ce ne sono due addirittura di mail non una ce ne sono due mail dove lo puoi contattare è luciano cavaliere 7 scritto al numero gmail.com e l'altra è by salmastro ecco se mi scrivete su by salmastro più facile vi rispondo by salmastro chiocciola gmail.com vi rispondo prima perché c'ho meno mail da controllare quindi se c'è qualcosa lo vedo subito invece in quell'altra c'è come me ne arrivano una fraccata a volte si confondono quelle aperte ricordatevi della diretta di domenica alle 5 siete iscritti non si legge luciano allora se se non siete iscritti iscrivetevi perché per gli iscritti siccome abbiamo raggiunto la quota di 23 mila 23 mila iscritti facciamo una piccola una piccola commemorazione vorremmo divertente sperare qualcosa di divertente quindi vi si dirà però dovete essere connessi se volete partecipare poi vi si descriverà tutto domenica se sarete dei nostri stasera non non costa niente quasi niente non vedo williams e maria stasera maria abbiatrice è bella questa natura morta mi piacerebbe vederla realizzata ad olio qualcosina c'è di sì c'è uno lassù ma prendiamo questa sì ma c'è il video c'è il video mi pare feci il video adesso qualche tempo fa quello è che pratica vado a darlo poi non gliel'ho più dato mi fece incavolare gliel'ho più dato quella di piombino ti ricordi vabbè lasciamostra e niente e quindi domenica ho visto della sfortuna volevo sapere intanto se deve essere fatto in un'unica aspetta ah no ti chiede dell'offerecimento no poi parlatene per email vai se no qui è un po' un disastro comunque il ferrocemento te lo dico tutta mentre chiacchiero il ferrocemento come anche le barche perché è un procedimento che è stato usato tantissimo per le barche deve essere fatte in un'unica sessione si è quello stavo dicendo se si fa in unica botta è meglio tant'è vero quando si facevano le barche in ferrocemento ma non solo le barche anche anche case sono state fatte case tutte particolari bellissime fra l'altro la famosa balena che è qui a baratti chiamata la balena che non è una costruzione una casa abbiamo fatto un video mi pare o no comunque non mi ricordo se l'abbiamo poi impostato perché a volte facciamo delle cose che rimangono nella telecamera che mi si è bruciata per la miseria si è rotta la telecamera ieri mentre facevo così morta vabbè e comunque dicevo si fa in un'unica botta quindi se si è grossa la costruzione con una barca di 10 15 20 metri si chiama a raccolta 10 amici 20 muratori sono gente che è abituata un po a spatolare io parlo di cose grosse una barca di 20 metri ragazzi quindi una cosa imponente per cui si comincia la mattina prestissimo e si finisce a notte tarda facendo impastando però il cemento su una barca anche grossa non è che viene fatto delle casse forme enormi per cui chissà cosa ci vuole lo spessore è piccolissimo e modesto diciamo tre centimetri ecco perché il cemento viene mantenuto diciamo in posa in posizione qui ci abbiamo un muratore quindi lo sa benissimo viene tenuto dalla rete che abbiamo pacchettata sì 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 senti marchio marco chiede che un amico sta lavorando a un libro di fiabe lui scrive io il lustro con disegni e personaggi fiabeschi tipo folletti ignomi e ricavato andrà in beneficenza io non prenderò compensi quando sarà pronto lo renderò noto va bene va bene se interessante possiamo fare anche un po di pubblicità per quello che posso fare io sai il mio canale è modesto però se è una cosa interessante vuoi dare qualche estratto che so qualche disegno che hai fatto lo mettiamo facciamo vedere insomma ecco se poi va in beneficenza ancora meglio noi quando avevamo la nostra associazione di pittori abbiamo fatto un sacco di cose per beneficenza abbiamo fatto libri abbiamo fatto Stanislaw Bianchi un saluto buonasera maestro un piacere ascoltato e quindi ci siamo proposti tante volte per con le istituzioni con i comuni con le usl per cui ecco se c'è qualche questa è la mail da eccolo scritta ecco se qualche cosa per beneficenza che non ha fini di lucro insomma può interessare diverse persone ecco per quel poco che posso non ci faccio niente ci sto lavorando ora così perché faccio due chiacchiere insieme a voi poi lo metto da una parte insieme a tantissimi disegni c'erano qualche quintale di disegni per cui qualcuno è da dimenticare insomma è una cosa per giocare un po' insieme a voi adesso per non stare con le mani così che smalacco come un forzennato qualche notiziona può essere utile così per passare un po' di tempo con voi in questo momento un po' disgraziato te lo lascio qui questo è il mio altro po' di fogli guarda e questo perché sta qui che ci fa eh ne avevo presi quattro o cinque tome le metto qui guarda comunque si vede va beh questo qui sì questo è anche un cartoncino abbastanza buono sì volendo questo qui si può prendere quelle matite si può ora io avevo preparato perché pensavo ci fosse fra noi quella ragazza che mi aveva chiesto qualche cosa che doveva fare un affresco qualche cosa sul muro ti ricordi non lo so non mi ricordo e va beh niente e gli avevo detto guarda stasera faccio qualche cosa ti potrebbe interessare non la vedo si vede è indaffarata o si è scordata va beh gli manderò poi vettualmente maestro che matita silvano maestro che matita stai usando ora questa qui è una 3b se si vede 3b perché la 2b non si vede cioè si potrebbe anche vedere ma dovrei calcare troppo siccome non mi piace calcare tanto con le matite perché poi rimane un segno si graffia il il foglio però adesso se no non si vede quindi sono quasi costretto a usare la matita ricordatevi della diretta di domenica ci sarà cosa ci sarà ci sarà una sorpresa si ma la sorpresa modesta insomma niente di non ci saranno né balletti né niente di particolare allora casomai dice che sbanacca non l'aveva mai sentito ma mi sa che smanaccare italiano eh ora non forse vabbè ma il toscano con l'italiano torna non lo so perché sai io poi a volte uso dei termini posso ridipiggere sopra un vecchio quadro a olio viene fuori una schifezza sergio benvenuto dipende da com'è questo quadro perché se c'è tante croste o ci arrivai sopra con croste ancora maggiori e per cui copri tutto ma se diciamo normale non ci sono crostoni non ci sono problemi non c'è bisogno nemmeno di dargli un fondo però se ci fosse delle croste potresti prendere una lametta sì no una lametta e lamare il tuo quadro se invece sono crostoni proprio impossibili grossi fastidiosi che non si possono togliere facilmente eh lì è un po un po problematica la cosa potresti alla peggio se proprio ti va insomma se merita la cosa smontare la tela e girarla metterla sotto sopra quindi levi chiodi basta prendere un coltellino non so se ci sono le punte le spille o se ci sono i chiodini comunque sia prendi un cacciavite le levi senza tagliare la tela naturalmente giri la tela e dopo parti come se fosse una tela nuova ti rimane in posizione perché ormai ha preso la sua forma basta girarla e quindi saresti già pronto per partire però ecco a soli Giacomo Gennari chiede l'autoritratto che c'è nella sua immagine del canale seguito a matita in che anno sì sì è a matita una decina d'anni fa al minimo 2009-10 aspetta forse ce l'ho 2009-2010 grosso modo sì c'è una decina d'anni fa sì sì una decina d'anni fa più o meno ecco vabbè questo poi volendo si può andare avanti tutta la giornata facendo tutte le cosine più o meno interessanti però ecco ci si può divertire moltissimo con queste cose perché si può andare a cercare o il particolare oppure con quell'articolare che avevo fatto adesso non mi ricordo se avevo fatti tutte e due questi qui mi sa che l'ho messo tutti e due questi questi dovrebbero essere uno c'è una sedia e non riesco sì più o meno dai allora eh vabbè niente insomma queste cose sono simpatiche disegnandole perché ti ci perdi veramente le giornate facendo divertendoti a fare particolari stupidaggini pieghe insomma fra l'altro ne ho fatto uno grosso una morta grossa però di quella di Piombino che era un metro e dove c'era anche l'italzido addirittura pensava quel ragazzo che deve dipingere sull'olio pensava di spalmare della calce per livellare un po' le croste del quadro no perché ti vuoi rovinare la vita poi ci sta che le croste vengono via devi livellare piano ma chi te lo fa a fare levi i chiodi giri la tela 10 minuti sei pronto e riparti col quadro nuovo se vuoi non ci dai nemmeno sopra la il fondo dipende dal quadro che ci devi fare adesso non lo so io l'ho fatto tante belle volte che ormai per me è la cosa più semplice faccio prima che non stare a Beatrice chiede se hai mai ritratto Frida no io credo che non ho mai ritratto gli animali proprio non credo no non sono proprio il mio elemento naturale fare ritratti a cani queste cose qui mi piace disegnare tantissimo passerei le giornate se le ho passate continuerò a passarle spero però poi quando devo difingere per divertirmi cioè per fare qualche cosa che mi piace che mi intriga non faccio cose figurative faccio cose più sull'astratto più su o su come ti posso dire quasi proprio quasi espressionismo astratto ecco cose non proprio gradevoli a limite però insomma buonasera angelo mattei sì sì date una del tu ci mancherebbe ci mancherebbe ragazzi qui siamo come al bar eh fra amici poi forse ci troveremo perché fra l'altro sempre parlando sì del più del meno e in tempi non sospetti avevamo quasi quasi pensato di fare un incontro no? per giugno si era detto ma siccome la cosa che è nata era stata pensata diversi mesi fa quando tutta questa storia era soltanto fantascienza e scienza e un incubo una lezione ho detto vai facciamo una cosa un incontro qui a casa ho abbastanza spazio senza andare su e giù con cavalletti cose ho tutto io casomai ci troviamo qui facciamo una merenda eh ci portiamo un panino oppure niente oppure insomma la possibilità di fare un incontro qui tutti insieme ora non è fattibile per ora non è pensabile ora purtroppo per il momento non è certo anzi avevamo due mostre in programma e ho paura che non ne faremo niente nemmeno di questo perché eh se eh gli assembramenti saranno vietati o ridotti come si fa vede una mostra in fila già già viene poca gente poi seppur si mette in fila con le mascherine i guanti le pinne insomma diventa una cosa veramente vabbè sarà per un'altra volta tanto non succede niente se non si vede la mostra peccato perché ormai eravamo quasi partiti mentalmente a fare questa cosa io avevo già preparato un po' di cornici un po' di quadri vabbè vedremo dai da qui a un francesco che ci piace gli piacerebbe davvero incontrarvi di persona e te l'ho detto avevamo fatto questa cosa io spero che ora ci fanno uscire i primi di maggio io quasi quasi vorrei provare a scendere giù vediamo se ci fanno fare i trasferimenti da regione a regione io vorrei andare un attimino a molise le pinne le pinne Cristina le pinne per cosa? le pinne? ci fanno mettere la maschera ok ok le pinne si si no vabbè esagerava trattando di un posto di mare e uno c'è anche lì no vabbè sarà un po' dura per i primitori per come la stanno mettendo certo io ho detto beh non voglio parlare di politica perché non è il posto però mi dà l'idea che sia un po' un po' sopra le righe questa cosa va bene non ne parliamo infatti non voglio parlare di questo se no si va in un altro argomento che ora è meglio non toccare no sì sì infatti raramente accena qualcosa di simile bene insomma è giusto una cosina per metterla su un piano abbastanza il nostro Francesco voleva sapere del tavolino io l'ho messa sul tavolino questa ah ecco l'ho messa su un bel tavolino spesso un bel tavolino spesso certo come quelli che abbiamo fatto noi non si scherza comunque potrebbe essere anche un cassetto quindi vabbè insomma se qualcuno si decida a finirmi di mandare le tavole Luciano mi finisce non è colpa mia comunque quattro pannelli di chiusura me li ha fatti mancano i laterali ma siamo senza materiale sono chiusi perché ora qualche ferramenta è aperto io sono andato quando? ieri? o ieri l'altro? ieri sono andato abbiamo una grande ferramenta vicino a casa vicino a casa ma sono proprio a 50 metri ah no 50 no 500 sì diciamo 400-500 metri e quindi e quindi sono andato a comprare due cerniere ma entra uno alla porta c'è uno davanti e non sta nemmeno in banca nemmeno nelle banche le banche ora devi prendere appuntamento per andare certo questi rapinatori come fanno? scusi io domani prenderanno appuntamento anche i rapinatori? e prenderanno sul sito di appartenenza non lo so anche loro lo so lavoratori insomma un po' buonasera Ciro Ciro Somma ciao ciao eh ok speriamo di far tutto per bene dai mannaggia la miseria ah ciao Damiana ecco qui e vabbè dai dai io ho detto mi ci divertirei un pezzo per questa cosia naturalmente su questo qui non c'è copyright eh potete se proprio non avete niente da fare ve lo potete eh fino a Alfi ha detto che lo fa domani eh si si lo potete tranquillamente rifare senza nessun problema di di nessun genere è una cosina si insomma ho detto poi ho detto il disegno poi sono sempre tutorial quindi sono sempre facili no perché ogni tanto qualcuno meno male ogni tanto qualcuno dice che è schifo ecco no ma il discorso è questo qui io anche quando faccio un tutorial lo faccio e lo finisco raramente casomai prima li facevo un po' più lunghi cominciavo ora poi lo finivo domani però poi vedevo che non c'era tanto interesse in questa cosa che si prolungava la gente vuole vedere in genere come inizia come finisce quanto tempo ci vuole allora ho detto vabbè siccome anche a me piace inizia una cosa e finira sennò portarla troppo alle lunghe perché poi è complesso io non ho lo studio adibito come ti posso dire a riprese eccetera per cui ora c'è tutto per telecamera questo per l'altro e poi sbaracco tutto e lo uso per un'altra cosa eccetera per cui averci sempre tutto in ballo è problematica a volte allora faccio un tutorial che praticamente quello che dura nel video è quello che effettivamente ci ho messo a parte qualche pausa per cercare un pennello rispondere a una telefonata oppure andare a cercare una cosa però ecco se il video è di un'ora probabilmente ci ho messo un'ora un quarto a fare un'ora e mezzo massimo ecco per cui quello è il tempo di realizzazione poi se uno ci vuole mettere un po' di più perché è un po' meno pratico vuole fare qualche variazione comunque ora tornando al discorso in genere in genere quando faccio un qualsiasi disegno tutorial cerco di mettere degli elementi che possono essere poi copiati senza grandi variazioni perché cambiare qualche cosa a volte è proprio snaturare il tutorial ma non perché voglio che sia riprodotto questo perché anche quando si fa una cosa semplice come una però una ragazza l'ha fatta ed è stata molto brava adesso non mi ricordo il nome che ha ripetuto il tuo tutorial ci ha messo del suo e mi è piaciuta molto forse Barbara non me lo ricordo sinceramente ora non mi dire i nomi perché ogni tanto qualcuno mi manda me l'hai fatto vedere ed era molto molto bello quella marina parli? sì sì la marina sì no ma l'ha rifatto no l'ha rifatto quasi uguale ha cambiato il cielo che ha fatto un cielo bello sì però bello l'ho fatto non mi ricordo però poi qualche altro ha mandato sì sì no ogni tanto mi fa piacere eh non è che ho nessuna invia Loredana dice che a Roma mezza giornata per fare la spesa no noi meno male ci sta qui a un chilometro il supermercato grande io continuo a farla online mando Luciano me la ritira e via non mi piace andare a perdere tempo sono andato l'ultima volta quando è stato? venerdì no mercoledì quando sono andata a fare la spesa? non mi ricordo oggi è venerdì 17 allora sei andato ieri ieri sono andato a piombire sì il 16 ah sì è vero ieri sì 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 comunque sono andato al supermercato ieri ci saranno state 3 4 persone dentro era mezzogiorno e mezzo qui la gente no era mezzogiorno e un quarto sì vabbè la gente è qui a mezzogiorno vuole mangiare a fare eh vabbè Lella sono tutti sono tutti a casa la mattina la sera se hanno voglia proprio di non mangiare no figurati si sta pensando solo al cibo vabbè perché vabbè comunque sia vabbò eh dicevo quindi ecco sì comunque ecco il suo file noi non se ne fanno vabbè ma il nostro è un paese di diecimila persone vive e diecimila morti perché qui sono delle zombie tutti ma quando sono tutti a posto dai dai esagina sempre allora sono solo cinquemila zombie su diecimila vabbè dai sempre esaginando eh vabbè dai non è una grande città vivace no no si sta bene tranquilla tranquilla qui d'agosto un paio di persone a giro si vedono dai come dai vabbè dai comunque insomma ecco se cercate un posto tranquillo qui è la sua morte maestro disegnate perché ride no perché perché io faccio le battute sceme lei se le rorda dicevo sì sì certo disegno dal vivo quasi tutti ora queste non posso fare dal vivo come fare anche se metto qui la diciamo il vaso di fiori o le pesche non lo vedreste dovrei fare degli accrocchi però in genere sì però te l'ho detto io il mio genere è partita la connessione sì allora no è partita qui non al cellulare però lì è bloccato no 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 sì sì comunque adesso non so cosa dicevo perché ho avuto un attimo di riblocco sì disegno dal vivo disegno dal vivo però ripeto io c'ho un blocco mi porto dietro dietro non lo sto nemmeno a cercare perché c'è un macello però ecco non c'è un foglio dove non ci siano disegni miei che vi ho fatto in giro e quindi insomma c'è un sacco di roba e come mi capita a volte sono fermo a aspettare qualcuno prendo un foglio disegno questa è una macchina che passa un panorama bellissimo no no ora si dovrebbe essere ripreso credo però disegno molto mi piace disegnare ci sono rispaldato il telefono forse il disegno è una cosa molto più immediata anche della fotografia perché la fotografia prende troppa roba anche roba che non serve che l'ho fatta? ho messo la carica al telefono a volte ho perso un po' di allora comunque questa merenda tra amici e di sicuro vengo pure io vi faccio assaggiare le birre e l'idromele che produco ci stai? posso dire di no? certo io spero soltanto che ecco si possa fare una cosa a breve ecco che non siano rimandate perché leggevo stasera che addirittura qualche virologo di fama o affamato non lo so ha detto che secondo lui fino a settembre non se ne parla io dico che andate preso e messo a rugo come stavonarola e tutta l'altra non ci si fa scherzi già la gente va di fuori ecco il 4 di maggio mi va bene ma se vanno al 15 io io dal 6 di marzo che non esco cavolo allora già conserva tutti gli schizzi che fai e butti qualcosa butta butta chissà cosa sono cose eh sì Cristina non se ne può più non so se sei Cristina o Andrea ma non se ne può più ma che guarda oggi ho detto sono uscito oggi così senza preavviso senza documenti vari in giro c'era un sacco di gente senza mascherine tutti li vedevi cioè la mascherina ce l'avevano in mano invece del cane portavano la mascherina mi viene da chiedere ma in casa chi ci ripane noi i locchi non lo so scusate ragazzi ma è successo lasciamela lì Luciano eccoci eccoci mi è arrivata una chiamata sul cellulare adesso è piantato tutto non lo risponde nessuno guarda un po' Luciano scusa qualcuno ci è rimasto mi spiace ma siamo messi un po' però sembrava andasse tutto bene va bene allora bloccato bloccato ai ai non funziona più ogni tanto siamo rientrati ok adesso si vi vedo eccoci di nuovo mettilo per bene perché lo vedo un po' io adesso ora non riesco più a capire dove siamo è arrivata una chiamata sei il servo vabbè ora vediamo un po' che punto siamo ok allora non so cosa si vede ora perché io non vedo un tubo niente allora allora spesso me lo chiedo anch'io se non siamo gli unici a stare a casa questa ah questa però ho visto una domanda prima che mi parlava delle misure aspetta se lo trovo eccolo qui oggi ho visto scusa eh però non ho capito come misuro gli angoli scusa leggilo lì perché e come faccio a leggere qui allora aspetta è di nuovo bloccato no volevo cosa era scritto come cioè come fai con la matita misurare l'inclinazione è la stessa cosa allora tanto per cominciare adesso non me lo ricordo questo video perché sai sono cose probabilmente fatte un po' di tempo fa però per prendere le misure si tiene sempre la mano alla stessa distanza eh quindi non è che una volta tieni un po' vicino al corpo una volta lontano una volta a mezza distanza sempre nella stessa distanza quindi braccio teso e l'inclinazione è la stessa cosa adesso io non se deve essere bloccato non riesco a capire quindi per l'inclinazione è la stessa cosa incline la matita e te la riporti sul foglio cioè eh io non riesco a capire cosa sta succedendo allora questo lo togliamo questo disegno che ha già fatto il suo il suo lavoro come dicevo te prendi la distanza con la matita tesa adesso no capito braccio sempre alla stessa distanza in modo che c'è un punto di riferimento certo che è la distanza appunto del tuo la lunghezza del tuo braccio e prendi la misura quindi con l'unghia metti l'altezza o la misura che ti serve e questa naturalmente se lo inclini inclini anche non so se adesso mi spiego un po' da cane però ecco fa conto che devi riprendere ecco una cosa che è inclinata così quindi prendi la la distanza e prendi questa qui poi se devi fare questo angolo qui inclini la matita naturalmente e quindi te la riporti qui ce l'hai estesa inclina la matita e hai questa inclinazione qui quindi sai che parti di qui e ti arriva qui e c'è anche la tua inclinazione se devi fare un viso la stessa cosa no a volte questo sia il tuo viso se vuoi sapere gli occhi a che inclinazione hanno cioè capito capito rispetto a la stessa cosa metti inclinazione degli occhi tutti e due ecco anche Maria Rosaria vedi si chiede se siamo gli unici a stare in casa e quindi un po' di persone si e quindi c'hai questa è la distanza degli occhi capito l'inclinazione quindi se questi sono gli occhi qui ci sarà il naso qui ci sarà la bocca e cioè l'inclinazione del tuo viso Caterina Dolce dice cosa ne pensa dell'iperrealismo si sei già detto un po' di volte che non ci piace preferisco la fotografia non mi piace ma apprezzo la tecnica dico boi quanto tempo ci ha messo bravi 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 perché non si è comprata una macchina fotografica non sta meno no no sono bravi sono bravi però è una cosa che nemmeno a me piace fredda come un carciofo con frigorifero allora che ti devo dire a chi piace Maria Rosaria la rosa dice è bello vedere delle semplici linee prendono forma gli oggetti è tutto linee si a Sorrento ci sono stato Amalfi ci sono stato a Capri siamo stati anche con la barca abbiamo girato un po' a piedi in macchina barche è la mia la voce è di Lella sono la moglie bella stela duca è la ragazza mi raccomando allora qui avevo tirato fuori dei disegni che ho preparato ma non adesso tempo fa e le volevo far vedere a questa ragazza questa che mi segue non so chi è di preciso ma era Anna Totaro forse dicevi sì sì che voleva disegni voleva dei disegni di matura e morte perché doveva fare qualche cosa e quindi avevo preparato qualcosa per fargli vedere come eventualmente organizzare il disegno e avevo preparato questo questo altro Carlo Guarnieri le piace penso Guarnieri c'è scritto Guarienti ma penso Carlo Guarnieri forse Guarienti Guarienti non lo so non lo conosco Guarnieri ma chi è quel ragazzo insomma quel pittore che fa santi madonne in maniera strana cinquecentesca non mi ricordo il nome perché sai i nomi se vedo il quadro ti dico qualcosa ma così il nome ecco quindi come dicevo avevo preparato queste cose preparato tirato fuori perché queste ce le avevo già da un sacco di tempo e quindi gli avevo detto guarda che secondo me è meglio di Giotto allora è quello che dici te ma sai Giotto poveraccio bisogna vedere se nel 1100 1200 questo Guarienti sarebbe stato capace di fare come ha fatto Giotto Giotto è stato un rivoluzionario ma Giotto uno guarda Giotto oggi e dice ma cosa ha fatto di così straordinario no Giotto perché diceva Giotto ma che schifezza tutte le persone strane cioè se fossero reali sarebbero no ha uno stile particolare del 1923 eh non lo so non lo so non lo so non lo so già Carlo Guarienti non lo conosciamo del 23 quindi 95 anni Guarienti non lo so non lo conosco può darsi lo conosco ma non così di opere ma non di nome no no perché ci sono tanti pittori che sono moderni però si rifanno a a pitture del 500 del 600 del 700 eccetera ora ho visto Guarienti non lo conosco sì sono matite colorate queste qui sono delle matite le solite matite che ho qui niente di straordinario sono ciao 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 sì Teresa io avevo una gatta che si chiamava Macchietta è morta quest'anno aveva 16 anni è l'anzianotta è l'anzianotta è l'anzianotta sì questo è uno degli schizzi che avevo fatto buonanotte buonanotte a tutti chi va via ora buonanotte ricordatevi di domenica alle 17 se non avete cose da fare e quindi saremo insieme sì per una diretta particolare ci mettiamo a fare qualche cosa insieme altrimenti mi invento qualche cosina da da fare insieme e poi e sì Giotto Giotto perché era era è stato così rivoluzionario no? perché che poi prima di lui c'era Cimabue Cimabue ah Loredana chiedeva se erano matite colorate sì ho fatto vedere anche le matite che uso che sono non solo queste di matite ce ne ho veramente tantissime però queste qui sono matite colorate perché quando mi misi a fare queste qui avevo fatto dal vero ce l'avevo anche questo qui è dal vero questa è la questa è la questa è la maglina della veranda e questa è la sì questo è il tavolino tondo ci abbiamo fuori questo è dal vero ecco no perché qualcuno mi ha chiesto ma le fai male dal vero? ecco questi sono dal vero questi altri che ho fatto stasera no Francesco Loriello piace Rubens ha detto andate a vederlo ed è rimasto molto colpito per lui Alvina si è messa la sveglia per domenica le 5 ecco è me lo so e se l'è segnata anche lei ma me lo segna sì anche Rubens ragazzi parliamo sempre di pietre miliari per cui c'è un motivo per cui sono diventati poi dei grandi e oggi a distanza di 300-400 anni ne parliamo ancora per cui insomma qualcosa hanno portato di nuovo nella nostra realtà nella nostra realtà Emanuela siete curiosi siamo siamo abbiamo raggiunto i 23 mila iscritti si si ma se l'ha detto quindi eh lo so però poi siccome qualcuno arriva dopo ci sta anche insieme la linea niente abbiamo ecco così festeggiamo anche perché adesso siamo tutti insieme perché adesso siamo tutti così impossibilità di arci quindi vabbè non tutti qualcuno lavora c'era anche l'infermiera l'altra volta sì d'accordo ecco chi lavora però per lavoro esce poi casomai per andare a farsi una girata ha difficoltà io voglio andare al mare eh Lela non sei l'unica che vorrebbe andarsi a fare un giro eh qui siamo tutti un po' messi male Dice Massimiliano dice se abbiamo visto lo stormo di satelliti in cielo Satelliti? no Satelliti proprio no no proprio uno stormo di satelliti no l'abbiamo visto un po' di piccioni non so mai ma satelliti ma forse gli ha cambiato la parola Forse gli ha cambiato la parola ma stasera poi no stasera non aveva mai acceso la televisione non ho visto nulla proprio il solito circoletto naturalmente conviene farlo di traverso che viene più facilmente e qui lo scriviamo in un parallelepipido cos'è questo? un cilindro no ma la figura geometria senza questo qui è un rettangolo senza l'ellisse è un rettangolo semplice è un rettangolo ma quello è un cilindro ora si ora gli ho fatto ora si no perché se uno volesse fare no no satelliti quelli di Elon Musk credo dice Cristina no no visto niente ho persa questa cosa ho solo sentito che no visto niente si è avuto nulla che verremo sfiorati tra virgolette 6 milioni di chilometri sfiorati da ma satelliti ma aspetta satelliti artificiali perché maschi artificiali artificiali no ma io dicevo no ho solo sentito che saremo sfiorati tra virgolette dal non mi viene il nome da un asteroide ma credo a fine mese non so niente passerà a 6 milioni di chilometri dalla terra poi le notizie sfiorerà cioè un asteroide di 4 chilometri di diametro sfiorerà eh 4 chilometri? sì ma sono 6 milioni di chilometri no 6 milioni di distanza e mentre l'asteroide di 4 chilometri di diametro ma la luna quant'è a 300 mila chilometri da noi ha dipinto mai qualche paesaggio della costiera capri eccetera no 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 dipinto un paesaggio all'elba quello sì che non c'è più tra l'altro sì ma qualche cosa no ma io sono stato sì è la faccia dello sfioramento 6 milioni di chilometri sì è un bel pezzo quindi le notizie dobbiamo stare sempre attenti e andarle a verificare ma sfiorare in senso astronomico no no sfiorare è passato proprio al pelo buon notte Caterina capito Gasper dice ci manca anche l'asteroide sì a questo punto hai mai dipinto qualcosa di astronomico sì quando faceva lo spray painting sì sì è astronomico sì ma anche il papero non è astronomico quello lì carine sono quelli dello spray painting sì ma sono dei giochi anche quelli lì ci dovrebbe essere qualche qualche tutorial dello spray painting con le bombolette sì roba di qualche tempo fa però non ricerca il papero camillo il nostro papero camillo che ce l'hanno venduta come camilla poi abbiamo scoperto no perché poi quando sono piccini è difficile distingue non è che tutti riescono a capire se è maschio o femmina poi è logico crescendo te lo accorgi eh Fabrizio sì cosa però non ha sede per chiacchierare di queste cose dov'è sì certo in un certo senso sì 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 siamo d'accordo ma mi sa che siamo sono tanti quelli che hanno di questi dubbi o di queste certezze non lo so speriamo siano solo dubbi te l'ho detto oggi sono stato fuori ma poche centinaia di metri da casa mia abbiamo così tutto vicino supermercato vino ferramenta sì ma il nostro è un paesotto piccolo per cui per questo probabilmente c'è anche meno diciamo di pressione con le forze dell'ordine eh può essere per cui sai più o meno la gente la conosce tutta pochi controlli sì se senti il ruolo di una macchina sai già chi è quello che passa ah vai l'imbecilia di tizio di bellato per di no eh la marmitta c'è ancora da sfondare eh sì dice fate ottimi contenuti e intrattenimento dovreste arrivare a grandi numeri molto più alti in effetti arriviamo a numeri più alti perché la visualizzazione dei nostri iscritti è solo un 20% l'ottanta per cento e dei non iscritti quindi di visualizzazioni ne abbiamo diverse sì ma non è che oddio siamo saltati di nuovo no no allora è saltato lui no ma il nostro ora siamo qui in coppia ah Andrea o Cristina sei a sei sette controlli perché quando vai al lavoro immagino o forse perché siete usciti perché io non ho capito se state lavorando o se ci pensa il capo voi due sabato scorso due volte quindi andate e ritorno dal lavoro immagino no noi no lui si è spostato anche di 20 chilometri ma nessun controllo quando arrivo sulla superstrada cioè dove potrebbero esserci controlli di solito ci sono cambio strada prendo strade meno trafficate dove difficilmente però l'hai visti qualche controllo l'ho visti l'ho visti l'ho visti però ecco ok siccome so che si mettono in certi posti conoscendo le zone cerco di evitarle sono a posto sono in regola però c'è sempre da dare spiegazione perdi tempo perdi tempo perché ci sei andato e perché con la mano sola e perché così allora evito se posso evito e quindi sapete come funziona no sì perché chi viene fermato poi perde sempre un po' di tempo poi perdi un po' di tempo devi dare spiegazioni a volte potrebbero essere interpretate in maniera strana o diversa allora per non correre i rischi sai com'è faccio un po' il finto tonto e me ne vado da un'altra parte ok sembra che siamo rientrati quasi tutti mi dispiace è arrivata una chiamata al cellulare e ha bloccato la connessione oh capita non lo sapevo se blocco la connessione ora volevo ora a parte fare il disegnino che insomma volevo dire anche che quando si fanno le composizioni bisognerebbe anche cercare di non disperdere troppo gli elementi capito quando le disponete sulla vostra tavola allora casomai prendete gli elementi faccio per dire ecco non li mettete uno qui ora non so se si vede che non vedo è un po' in ritardo sì se li forse beh mettiamole così ecco però non c'è pochette dimensionalità ah vabbè non li puoi raddrizzare si vedono vabbè capito non vanno messi in una certa maniera in modo che si raggruppino quindi si fa o una cosa a piramide quindi una cosa alta dietro capito e poi si segue una specie di di vetro ora forse non si vede un tubo no no si vede capito dove è la matitarella più lunga ecco la vetro si fa una cosa verticale quindi qui ci si mette che so io anche una candela per esempio per dire si cerca un vertice oppure si fa una cosa diversa si fa una cosa più alta qui e si scende cioè si dà un verso anche qui non si mettono le cose a caso una qui una lì una lì e molto distanti che so io una pera qui un'altra qua giù un uovo qui mai disperdere raggruppare in modo da poterci lavorare prima cosa da dare un interesse all'immagine no perché se no se si mettono tanti elementi disparati uno di qui uno di là l'occhio si trova sai come quando tiri le palline e non si sa vale prendere prima no e invece in questo modo in questo modo si ha una visione d'insieme e si apprezza maggiormente il nostro dipinto poi ci potrebbe essere un elemento diciamo di staccato per controbilanciare a volte se c'è troppa roba qui allora si cerca di dare un contraforte però in genere si cerca di dare un certo svolgimento piccole cose da tenere di conto quando si fanno perché se no ci si sbraca si si hanno fatto ah si no qui io qui però sai ultimamente abbiamo frequentato polla gente quando è stato sempre no quando sono andata a prendere carciofi che giorno era sempre il solito giorno 2-3 giorni fa i nostri amici ci hanno portato dei carciofi e sono andato sotto il supermercato perché c'è si le multe sono così alte sono di 500-400 poi se le paghi subito vengono ridotte del 30-40% si le multe arrivano a 4-500 euro se poi pagate entro un tot di giorni vengono io ho detto rimango sempre un po' stupefatto da queste cose cioè nemmeno se uno avesse ucciso chissà chi ma io posso capire se uno fosse malato e scappato dalla quarantena ma se uno non c'ha problemi se uno sa sfumare casomai a pescare il formaggio un pezzo di formaggio che ci fa? niente passava di qui e si è fermato stava bene in compagnia ci vuole il topino io credo che al top non li calva il formaggio si vabbè si dice io vedo che ogni tanto e dove stai Massimiliano? Massimiliano ah ho detto che li hanno fatto dove e qui quando si mette l'etichetta lo stesso discorso de nello stesso fondo naturalmente all'aiatico dove è vicino Pisa le parti di Pisa Pisa quelle parti lì mi sembra o mi sbaglio mi sembra potrei sbagliare però mi sembra le parti di Pisa un po' più verso l'interno forse verso no Pugibosi a quelle parti lì mi sembra Ponte d'era ecco da quelle parti lì e quindi ecco nelle composizioni cercare di raggruppare poi eventualmente qualche cosa di ecco volendo se c'è troppa roba da una parte perché è stato un po' sbilanciato sulla destra sulla sinistra allora cercare un elemento che dà un po' di bilanciamento poi no no allora il Grossetano dov'è l'aiatico eccolo le danno la figlia si è beccata 350 euro di multa ma è per far cassa un cassa o no la cassa la svuotano a qualcuno mamma mia ragazzi l'aiatico dov'è l'aiatico perché lo sai ora non mi sovviene non mi sembra il Grossetano però l'aiatico mi sembra più verso allora lì cosa c'è anche io sulle piene ma allora questo togliamo un po' ova qui che era giusto per dare una piccola indicazione a volte dicevo che se vi piace fare le nature morte vi potete fare uno scatolone di cartone dipinto di nero ci levate un lato e poi ci piazzate qualche lampada piccola grossa avevamo detto Ponte Terra quindi tra Ponte Terra e Volterra infatti mi sembrava da quelle parti sì sì ma lei ha detto Grossetano mi sembrava da quelle parti non ci sono mai stato però il nome non era certo nuovo e dicevo se a uno piace fare le nature morte può trovare appunto un'idea non male discreta vengono degli effetti tipo seicenteschi con queste luci un po' particolari però potete appunto questa scatola nera quindi non assorbe luce o al contrario l'assorbita tutto va bene e quindi vi potete finanziare i vostri elementi pere mele bicchieri quello che più vi piace e con le luci anche colorate anche le luci colorate rosse verdi una rossa una verde una gialla una blu come cavolo vi pare e posizionare in date posizione appunto e dargli delle connotazioni molto molto suggestive per cui potrebbe essere una idea da da sfruttare ok allora io cosa quant'è che siamo connessi un po' perché si un'ora è 08 un'ora un'ora un po' perché concesse buono un caffè no 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 allora marcesima il paese di Bocelli dice ah 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 sì ma ci siamo sicuramente passati perché siamo andati sia a Ponte d'Era che a Tarzana tante volte però l'aiatico non credo di esserci mai stato vedi è un posto da segnare poi ora appena possiamo appena aprono i gabbioni come si dice ci dobbiamo fare una buzzata di di giri di qua e di là perché io sono stanca sì anch'io mi sono stufato anche se poi in realtà quando sei libero non è che vai sa dove non è che uno fa le pazzine io voglio armare voglio andare però ecco da dire non si va a durare armare si va a prendere due conchiglie oppure si va a fare due sarti corcane no lo fai invece così non poterci andare è fastidiosa la cosa poi soprattutto perché imposta allora ancora peggio sai e poi un'altra cosa strana che ormai siamo un po' in argomento anche perché non parlarne è difficile ci danno sempre della gente noi italiani resti alle regole che non rispettano codici questi insegnamenti tecnici sono utilissimi sempre grazie per questo sì io spero che qualcosina mi possa essere di aiuto non sono grandi cose però a volte sono i dettagli quelli che fanno la differenza per cui le grandi cose poi ci si arriva facilmente si apiscono al volo però a volte piccoli dettagli piccoli cosini non ce l'avevo pensato ecco a volte fanno la differenza vedi anche vale vuole andare al mare ragazzi che è che non vorrebbe andare al mare ora soprattutto perché non ci si può andare e quindi siamo ancora ciao ciao buonanotte ci si vede domenica alle 5 domenica io domani non so se faccio qualcosa non lo so non programmo niente per cui non dico nulla poi se eventualmente ci passa qualcosa nella testa chi lo sa che non ci dedichiamo a fare qualcosa perché la mattina è ancora fresco almeno qui fuori stamattina per esempio sono dovuto mettere un maglioncino perché non era proprio caldissimo però poi verso le 11 mezzogiorno si muoriva di caldo e mi sono levato tutto poi in serata faccio per dire perché se no si poteva fare qualche cosa fuori all'aria aperta e quindi fatto di mattina no perché Raffaele vuole andare al cammino della via francigena ma è lunga dipende da dove passi perché poi la via franchigena io non ho ancora capito bene perché dove vai lì c'è la franchigena a chi andava cioè si la so la storia però se vai sul Trasimeno c'è la via tra franchigena se vai a Firenze c'è la via tra se vai a Pisa c'è cioè praticamente maestro un po' di natura amo disegnare la natura hai voglia faremo anche quella come si può uscire qualche giorno ci mettiamo fuori e se c'è qualcuno col pollice verde quando è che fioriscono i meli perché io ho un melo fa le mele buonissime che ci si passa da quelle parti non credo che ci si passa mi sembra che dove Cristina non stava nel Ravennate non me lo ricordo Cristina Andrea dove stavano forse in Emilia Romagna non me lo ricordo c'è questa batteria scarica guarda c'erano dovrebbe essere carina batteria lì sopra ma c'erano avessi un altro lì dove c'è non c'è il cavetto lì appeso reggiano appennino e allora non ci si passa da quelle parti no abbiamo fatto una strada diversa ora prima prima passavamo da da Roma poi è qualche anno non tantissimo un po' che non ci si passa più almeno due o tre anni era troppo uno stress anche se tutto sommato non abbiamo mai avuto grandissimi sì però c'era una volta tre ore sulla corda la voglia vedrai non me lo dimentico perché quella volta che si scassò la macchina mi va cos'era agosto andamma riprende 5 d'agosto 5 d'agosto un caldo si moriva la macchina rotta sotto va beh bei tempi tutto sommato bei tempi oggi chi lo fa più oggi se lo fai oggi forse perché è piegato ma l'hai attaccato o è per aria no l'ho attaccato è spento lì lo vedi se non l'accendi come lo favo andato ecco ora casomai ecco che fai allora Maddalena ha detto che i suoi dovrebbero fiorire adesso perché io ho questo melo però sembra che si decide ci sta che si è seccato ma come è seccato l'hanno scorso l'ha fatto per bene l'ho potato la melianurca a maggio ha detto francesco passo del cerreto passo di prada arena no non conosco quelle parti non ci siamo mai passate anche noi ci siamo un po' un melocotogno melocotogno sì ma ecco restano lì le melocotogne sì e non le colgo nemmeno la minonna se le faceva si faceva sì ma si è in Selvatichito Selvatichito l'ho potata visto come è venuto bello ho fatto perché era maestro che bei momenti quando stavo a Monteverdi Marittimo eh a Monteverdi ci siamo stati a Monteverdi sì a Monteverdi aspetta c'è anche a Garfagnana è tutto un quadro eh sì sono belle zone lì ragazzi il Pisano la zona lì è bella sembra di vedere quadri di 300 e 400 e noi abbiamo tantissime zone tantissimi posti che proprio raccontano la storia a mani piene però sono pochi quelli che veramente si interessano e sanno apprezzare lo sai che non lo so se c'è le gemme non ci sono andato a vedere cosa il melo non c'è niente perché siccome di solito è bello fiorito perché il melo è bello perché tutto se non c'è nemmeno le gemme vuol dire che sta morendo io sono stato quando due o tre giorni fa era lì non fa niente strano perché lo volevo dipingere lo volevo disegnare non dipingere perché è bello come un albero tutto un po' contorto tutto un po' vedi aggrovigliolato come si dice è una bella pianta però ecco fa fai frutti non ho capito il pero invece è bello fiorito il pero è fiorito bello anzi ti dirò anche secondo me è andato il melo e allora può essere sei suicidato perché Castelnuovo Monti Cristina e Andrea non lo so dove è Castelnuovo sono posti che o ci passi la Iatica che è qui vicino non ci sono passati assomai sì sì io l'ho letto qualche volta sì anche io sì ma infatti ero convinto fosse da quelle parti perché Stefano Bandinelli chiede se gli fai un tutorial di montagna con tanti alberi eccetera io di montagna lo faccio di fantasia perché io di montagna questa non l'ho capita pietra bismantova dove dove oggi noi siamo no no perché Cristina prima mi ha detto che era di ma sai forse come si fa noi a volte io sono di piombino poi sì piombino perché è quello più conosciuto però poi dice sì però ho detto io io ho detto montagna sai qui non ci sono montagne per cui se lo faccio è di fantasia perché la montagna più alta che c'è qui è il colle di qui la montagna di Campiglia montagna è una collinetta di 300 metri ce l'abbiamo all'Elba cosa c'è il Monte Capane c'è il Monte Capane ma l'Elba ma non è la montagna sì ci fa anche la neve durante l'inverno ogni età una spruzzata ma cioè chiamarla montagna perché io con le montagne ho detto sai l'unica cosa importante con le montagne è non farle mai ci sono lo so che ci sono sente solo audio ci siamo persi di nuovo di nuovo mannaggia ci siamo? ancora? si è fermato era un whatsapp mio ma te con questo whatsapp eh ragazzi ho provato provato a chiuderlo ma se chiudo chiudo anche la connessione ma ci vedete ci sentite? ora non lo so lì è bloccato però lì non va fa un f5 forse non lo so come funziona si tutto ok dice Beatrice allora ci sta che ora si vede deve essere però lì è bloccato vabbè dicevo quando si fanno le montagne anche se anche basta il video è fermo il video è fermo ma che strano prova a muoverti eh no c'è l'immagine ferma lì è bloccato non lo so e si vede che il cellulare si è stancato pure il cellulare è stancato l'immagine è bloccata si lo vedo che è bloccato sul cellulare allora vediamo prova a spingere di accendere a volte sei impallata ecco siamo tornati ci siamo? si mi apri la pinza aspetta ok chiudi ma lì come mai il monitor è sempre fermo l'immagine? ci dovremmo essere adesso guardate un po' ok adesso ma a posto io non vedo però dicono è a posto no eh ma non lo so che è successo la connessione era un po' bassa si è bloccato lì ma qui va era un po' bassa la connessione perché qui funziona vedi sì allora dicevo parlando delle montagne allora qua si sta rimparlando si sta rimettendo a posto allora mi vedi che su questo è purtroppo un problema questa connessione è davvero un problema qualche fogliaccio ah questo foglio qui dai allora dicevo le montagne in genere la gente le fa così le montagne no con gli alberini oppure le fa così come naturalmente non vanno bene così le montagne sono ecco anche se a volte ci sono non esistono è colpa dei satelliti ci sta qualche satellite è passato vicino a due milioni di chilometri dai dicevi delle montagne sì sì stavo facendo mai ora naturalmente sto estremizzando non è che proprio se no veramente però tanti fanno le montagne così come se fossero tante piramidi più o meno grandi più o meno e naturalmente non va bene anche se poi in realtà esistono però quando si fanno quadri anche se ce l'hai di fronte ed è quella lì si cerca di fare una montagna che ha un suo verso capito che ha dei pieni dei vuoti per cui si cerca di trovargli una sua definizione che non sia questa piramidale e al solito si cerca di metterla sempre non come un bastione di fronte nel quadro ma si cerca di metterla sempre diciamo sì in un margine in modo da dargli una profondità di campo quindi si cerca nel foglio ammesso che questo sia il nostro quadro ok di mettere una così marginalmente e poi di lasciargli una zona libera e poi da creargli un lago una strada dei campi qualche cosa delle baite ecco non cercare mai di riempire il quadro con tutta questa popò di montagna perché rischi di fare un blocco un murito Gianni dice che il libro che gli hai consigliato l'ha trovato quello sulla storia dell'arco quello di Argan è un po' datato diciamo sì però è uno dei secondo me tra i migliori è un bel tomo poi c'è un altro che si ha un gambrich mi pare più votato alla pittura moderna contemporanea però insomma io penso che questo qui di Argan sia un buon sì che vuoi che ore sono sulle 11 quasi per cui Carlo Argan sì Carlo Giulio è stato anche sindaco di Roma fra l'altro non che sia un merito particolare ma insomma per dire per posizionare l'elemento canticchia un po' ma si può fare cosa? non lo so cosa dicevi e niente questo ti dicevo delle montagne ecco qualcosa del genere per cui non cercare di riempire il quadro con le montagne cerca di non farle che riempiano tutto il quadro non farle a piramide ecco cercare sempre qualche cosa che allontani e crei una scena ah costicchia voleva dire non canticchia ah costicchia ma si può fare ma mi sa che se vai in qualche libreria un po' più fornita diciamo comunale le trovi queste queste cose qui e non mi vorrei sbagliare però mi sa che riesci a trovarla anche in qualche pdf sul web da qualche parte non sono sicurissimo però di questo però potrebbe essere tanti anni fa tanti anni fa lo facevano stavo dicendo stavo dicendo tanti anni fa di fare il Corriere della Sera aveva fatto proprio delle dispense di questo Argan e quindi ci sta che qualche turno riesca anche a trovarlo o così in qualche libreria un po' vabbè comunque ecco per le montagne ti posso dire di cercare qualche cosa che non sia mettici la cruce qui queste no su quelle queste no di non farle così ecco Bob Rossi Bob Rossi ha buon'anima ha tanti meriti in quanto ha portato tanta gente che non sarebbe interessato di arte a fare qualche cosa però la sua è proprio una semplificazione massima è un modo semplicistico di realizzare le cose a limite anche gradevoli però con l'arte insomma è come avere la Divina Commedia da una parte le parole crociate sono tutte e due con le lettere però insomma sono due cose abbastanza che fai ti metti a decorare quelli sì perché poi la gente ci si mette poi ci fa era un militare Bob Rossi sì era un pilota era un pilota aggiustale capito ci fai poi la neve capito poi ci fai il corsino qui sotto come De Chirico e Savinio sì De Chirico ha fatto la guerra però non era proprio un militare Savinio era musicista suonava pianoforte scassava pianoforte più che altro però mi piaceva Savinio quando arrivava lui a suonare diceva vai adesso ci dobbiamo un altro pianoforte porca e lui cominciava se non lo rompeva qualche cosa mi piace mi piace Guttuso mi piace non tutto mi piace naturalmente però mi è piaciuto in tante opere aveva un bel tratto personale sì mi piace mi piace De Chirico era un fifone durante la guerra si è imboscato subito ma non solo lui e lui poi fra l'altro si è andato via dalla Grecia si è andato in Francia insomma si è ritrovato in un momento maestro Gianni chiede perché gli americani dipingono spesso solo ed esclusivamente con una pennellata punto interrogativo perché quello che si vede tra l'altro alla Bob Ross per tornare a Bob Ross lui è stato l'antesignano anche se poi Bob Ross la sua volta ha copiato un altro sono diventate piramidi tra un po' quelle montagne sì ma adesso sto giocando giusto per far un po' come lo sai e ti dicevo Bob Ross ha copiato un altro che faceva delle rappresentazioni nei supermercati come ogni tanto si vede anche qui da qualche parte nei supermercati faceva esposizione proprio che fa un po' di gente veniva pagato proprio dai commercianti per attirare la gente e quindi niente insomma ah con una pennellessa sì una pennellata ma una pennellessa sì ma per dipingere ci sono tantissimi modi però questi qui sono questi modi faciloni no che sono anche bellini però con l'arte hanno poco a che vedere poi mi diceva a me mi piace guarda padronissimo però come ti posso dire sì vabbè se uno gli piace si diverte per l'amor del cielo però Bob Ross perché tanto di questo stiamo parlando non proprio di lui ma di questo genere la pennellata grossa il pennellone pop 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 sciacquato nell'acqua nel diventico con lo straccio oppure con la spugna oppure con i piedi che poi sono cose vecchie tra l'altro che lo facevano già negli antichi per cui questa era una portata a estremizzare dicevo questi video che si vede anche Bob Ross mi dice sono tutti uguali i suoi quadri per forza ma ti dirò di più che ora non lo so se conosci un po' le vicende umane e contemporanee anche di Bob Ross Bob Ross lo sai nonostante sia morto già da tanti anni vende ancora quadri perché quando faceva queste sue rappresentazioni televisive bravo ma ripetitivo perché quello è come lo spray painting ragazzi sono bellini e voi le guardate ah bello mi piace guarda qua sembra vero però è un cliché più di totte non puoi fare scusa rito perché Pino ha scritto mia moglie mi ha appena tagliato i capelli sembra un quadro cubista di Picasso allora lo dobbiamo vedere noi siamo amanti dell'arte che cavolo le pennellate di Schifano non hanno rivali si guarda se si parla di pennellate guarda anche Schifano per certi versi è stato simpatico bravo per qualcosa mi piace anche fra l'altro poi naturalmente c'è il mercato di mezzo c'è la droga di mezzo c'è tante storie tutte queste belle storie che tutti conoscono però ai tempi del dadaismo ai tempi in cui ancora prima ancora prima quando c'era il Bauhaus ai tempi un po' prima del nazismo perlomeno quasi contemporaneo il Bauhaus è stata una bellissima esperienza di arte era l'arte a tutto tondo l'arte con la maiuscola ma una grossa così per cui era qualche cosa che oggi ce lo sogniamo oggi con tutte le nostre avanguardie con tutte le nostre cose alla fine sono tutti figli figliocci di quel periodo lì che probabilmente non avrà più uguale penso che c'è stato un momento di è stata una rivoluzione veramente secondo me epocale quello ha cambiato la storia dell'arte per cui tutto quello che si vede oggi se vai a vedere con l'occhio un po' più smaliziato ma questo l'ho già visto ma questo l'hanno già fatto casomai non c'era il computer tante cose non si potevano fare non c'era la tecnologia di oggi ha cambiato molto la tecnologia però ha cambiato soltanto la cosa formale il contenuto è rimasto abbastanza insomma così e quindi io nonostante veda mi piace mi piace tutto dell'arte però non ci vedo un grandissimo movimento vedo tutto un po' un po' un déjà vu un po' figlio del mercato anche se adesso il mercato è cambiato molto perché soprattutto con questa crisi voglio vedere se ci saranno ancora queste vendite milionarie dei 90 100 milioni di euro per comprarsi un coniglio di acciaio inossidabile o che so un pesce cane in formalina insomma ecco non lo so poi può darsi domani riparte la storia peggio di prima più di prima non lo so chi lo sa però vabbè sì le retroguardi ci siamo ci siamo un po' giocati il futuro con le nostre mai noi non noi insomma come categoria diciamo sì con la ricerca assoluta della novità a tutti i costi anche dopo tre giorni perché sennò aveva dieci giorni vecchia non già vista ma sempre la stessa roba dopo tre giorni e invece e invece forse se queste novità ce l'avessero portate alle estreme conseguenze l'avessero centellinate l'avessero diffuse in una maniera diversa chi lo sa che forse oggi avremmo ecco un piacere diverso un'arte diversa in giro boh non lo so allora sei alla moda alla moda pino giuffri sì alla moda alla modia allora sì l'arte ha così tante sfaccettature che dire oggi io sono contemporaneo sono moderno mi piace questo mi piace verlo ha un significato relativo negli anni 60 probabilmente c'è stato un grandissimo momento di così di evoluzione continua c'era questa voglia di cambiamento di ricerca assoluta di un qualcosa che poteva essere e quindi chi lo sa boh io ho visto tante tante belle iniziative iniziate con vigore con intelligenza e poi finite Castellani anche lì ha fatto un sacco di belle cose ce ne sono tantissime poi sono rimaste un po' ferme proprio perché c'era questa voglia di novità assoluta tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni e alla fine ci siamo giocati un po' il futuro ecco per questo addirittura qualcuno ha detto che come è morto Morandi quindi non proprio ieri ha chiuso il periodo dell'arte italiana l'arte italiana da quel momento non ha più avuto una storia sembra un'esagerazione ma se andiamo a vedere dopo Morandi non è che c'è stato tante cose dopo chi c'era c'era già casomai nuove leve ce ne sono venute poche poi ma non guardiamo il panorama italiano uno conosce Tizzo conosce Kaio ma quando si parla di arte deve guardare all'arte mondiale non soltanto all'arte del pollaio del nostro piccolo ambiente perché poi l'arte italiana si è fermata un bel pezzo fa e a volte ho parlato con ragazzi con l'accademia venivano da fuori venivano che so dal Giappone venivano dalla Cina venivano da Vietnam chi poteva venire e li chiedevo perché venivano da noi e non andavano da un'altra parte proprio perché c'era stato un qualcosa in Italia ma non perché c'era adesso c'era stato quindi si andavano a Firenze perché gli sembrava di rivedere gli angoli in quelle casette gli sembrava di rivedere capito che so Leonardo con il tabarra in questa giornata fredda che passeggiava ancora perché su un altro si dice ci avesse lo studio quindi proprio di fronte al Bargello per cui ecco uno anche se non c'è più non ce lo vede però in qualche maniera ce lo immagina un pittore se non c'è immaginazione è un disgraziato quindi lo vedevi anche se non c'era più ecco per cui per questo venivano se no andavano in Inghilterra andavano in America che andavano in altre parti dove c'è dove l'arte si fa in un'altra maniera Bansky fenomeno o altro sì fenomeno o altro piede sì è un fenomeno così come ti posso dire un riciclatore di idee altrui ma il topolino quello è il topolino che ha tagliato che ha tagliato quell'immagine venduta sì è un po' come il nostro Cattela no un provocatore ha trovato un ambiente favorevole sì che ti devo dire non mi dispiace non mi disturba poi se ti dico è arte sai l'arte ha così tante sfaccettature che ogni cosa può essere arte ogni cosa può non essere io ecco la ritengo un'arte un po' così però è come Bastia ti piace a me non è che mi entusiasmi anche se qualcosa devo dire che che ne pensi di Simone Massi al solito dimmi chi è non lo conosciamo quando parliamo di un nostro piccolo ambiente italiano è difficile trovare sì Franco Altieri chiede maestro ho provato a spatolare ma prima ho usato un cucchiaio non mi è piaciuta più di tanto la spatola ho provato più utile il cucchiaio avrò sbagliato misura di spatola? non lo so come faccio di spatola ce n'è così tante che non lo so poi dipende a che tipo di materia hai usato perché per usare un cucchiaio probabilmente dovevi spremere parecchio forse non so cosa usavi il cucchiaio è uno strumento ma ciao Maria Rosario notte ciao ciao non so non lo so forse avevano più idee forse prima stavo riferito al discorso di prima sì probabilmente il mercato c'è sempre stato per cui non è che una volta non ci fosse il mercato per cui erano più liberi il mercato c'è sempre stato i pittori volevano vendere come vogliono vendere adesso per cui c'è sempre stato casomai c'è da dire una cosa che oggi i pittori una volta erano più ricchi perché per esempio tutti quasi tutti quelli che andavano al Bauhaus era gente che poteva stava bene non erano scusate allora perché io di pittori le conosco poco e niente contemporanei forse no i pittori diciamo locali pittori anche bravi perché ce ne sono anche di bravi però non è che le conosco tutti poi se uno ha fatto dieci mostre nel suo paese o anche in giro per l'Italia però non ha portato qualche cosa di nuovo di travolgente mi posso dire boh non lo so Beatrice vuole sapere che ne pensi di Cascella Cascella è un arto di vele che ha trovato un cliché gli è andata bene finché è campato sì visto uno ha visto tutti Simone Massi è un animatore regista illustratore italiano non lo conosciamo può essere ce ne sono tanti ragazzi se cominciamo io vi dico mi tiro fuori l'annuario questo è uno dei tanti guarda questi sono tutti nomi di pittori questo qua è capitato su Bespigni forse è l'unico che tutti conoscono guarda tanti ce ne sono guarda sono tutti pittori guarda tutti pittori sono guarda sono tutti pittori guarda quanti sono come fai a conoscere tutti è impossibile guarda qua sono tutti pittori Baglivo Camassa Carbonara Cipriani Teile Bareggio Bonassi sono infatti dice molto simili i suoi quadri guarda qua guarda quanti sono sono un milione come fai a conoscere tutti e se le guardi sono tutti uguali sono tutti uguali questa è la figlia di Fiume questo non so ma sono hanno tutti lo stesso cliché ora qualcuno ha pennellato da sopra però non c'è la vita Annigone Annigone è uno di per librare perché ogni tanto in queste raccolte di pittori ci metto un nome famoso noto e poi tantissimi che casomai sono bravi al pari si va beh ok ragazzi era per dirvi come si fanno a conoscere tutti e questo è soltanto una piccolissima parte un'esercita di pittori vuole romana power pittrice si ma ha detto pittore è facilissimo così prendi una matita un pennello un foglio se è pittore come fa a dire di no stai pitturando pittore 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 poi da lì essere artista da lì riuscire a portare qualcosa di buono è difficile magari lo sapessi sarei un pittore allora come ogni diretta ci hanno richiesto di Michetti che cosa ne pensi come hai detto è uno dei tantissimi che sono su questa rivista e ha avuto l'opportunità di farsi conoscere anche su web fuori dal web cosa ne posso dire il bene possibile era simpatico stato militare eroe più o meno dipingeva discretamente si è divertito quanto ha voluto ma il parere di Sgarbi è influente nella pittura per chi lo paga è influente sai se ti dico io bravo sei bravo ha un'importanza moderna se te lo dice Sgarbi casomai io te lo dico gratis io te lo dico gratis lui casomai vuole 20.000 euro è un dettaglio ritendiamoci però però questa è la differenza però il suo è un parere più più importante diciamo così se te lo dico io sono un bischero se te lo dice lui anche la stessa cosa però è più di peso poi però ecco non è detto che se uno ti fa Marcello Vellavia sta parlando di Utrillo e della Valadò e della Susanna allora Valadò mi piace come pittrice come storia quella è una certezza cosa L'Utrillo secondo me se beveva un po' meno era meglio ma non non mi piace no poco niente male che si l'Akmatowa no ah forse la pittrice donna l'Akmatowa 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 si però mi viene il nome ho capito chi è che la pittrice più viva delle teste di Morigliani male che si dica di Utrillo io ho detto Utrillo non mi piace la pennellata di De Pisis punto interrogativo Massimiliano Petrini De Pisis sì mi piace De Pisis sì sì e Carrà che dire però anche De Pisis anche lui ha una storia tutta particolare è diventata abbastanza noto più che altro perché era un rompiscato però mi piace non si resta fa sì 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 va bene anche Van Gogh era meglio se beveva meno e se si pupava di meno colori perché se li mangiava sì lui è sempre sempre stato un bipolare nel corso Van Gogh è cascato il tomo dei pittori sì è sempre stato un bipolare da quando era ragazzotto da quando cercava una dimensione si richiede se per diventare critico d'arte qual è il percorso devi studiare storia dell'arte l'accademia poi una specializzazione devi fare storia dell'arte al limite anche lettere ci sono tanti percorsi poi uno sai critico d'arte non è che è una professione particolare chiunque Maddalena dice persona rilassante Sgarbi no ma finché parla di arte allora è insomma apprezzabile eccetera io di Sgarbi devo dire la verità ho praticamente tutti i libri che ha scritto non ne ho letti nemmeno uno non ce la faccio non ce la fa non ce la faccio leggo qualche paio poi io no ce la posso fare e non ne ho letti nemmeno uno praticamente però ce l'ho tutte sono collezionista diciamo sì perché non finché parla racconta con gli anedoti insomma la mimica tutte le volete ce la faccio a seguirlo poi fa troppi rimandi come Umberto Eco vi ricordate Umberto Eco se l'avete letto che so io è il nome della rosa oppure quell'altro no no grazie no grazie guarda alla fine diventi di pre no no io divento di pre non credo te dice alla fine dice diventi di pre non te immagino come critico d'arte non te come persona di pre era avvocato fra l'altro non era nemmeno nemmeno fatto a me aveva iniziato bene poi è decaduto perché il problema dei pittori allora come diceva cosa adesso mi viene il nome il problema della pittura sono i pittori no perché i pittori si sentono diversi si vestono in maniera diversa si mettono il tabarro il sigaro oppure si mettono il cappellone la sciarpa rossa insomma mettono la divisa da pittore da artiste perché è come se fosse un attributo particolare come se fosse un raggiungimento di uno stato no ma lo stato mentale no ho stato capito io come posso dire io sono pittore io sono artista te sei va bene dai poi ognuno la vede in maniera diversa beh beh vedi così vanno bene così vanno bene così vanno fatte oh questo qui è un come si chiama sì sì avevo capito che era il critico avevo letto un attimo però poi avevo capito Marcello sì sì no ma comunque a parte gli scherzi ora per fare il critico d'arte ma serio non è facile sono vari di siti dove si possono esporre le proprie opere che ne pensi ah allora ne penso sicuramente verrà richiesto un opolo no a parte no a parte quello allora noi avevamo un sito fino a un paio di anni fa sì due anni fa l'abbiamo ottenuto per una decina di anni sopra c'erano centinaia di quadri di pittori più o meno note più o meno bravi più o meno scazzacani non abbiamo mai venduto un quadro mai e ci hanno chiesto 4-5 volte qualche prezzo ma in 10 anni di 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 aggiornamenti di sito eh e vada bene ora non vanno più ora poi siccome non vanno più siti internet siccome poi mi ero stufato di seguire questa cosa di fare perché costa tutto costa aggiornamenti poi ci mettevo un sacco di notizie su pittura sull'arte sui concorsi lo seguivo veramente tanto ci avevo un buon seguito però non si è venduto un quadro nemmeno per sbaglio casomai poi i quadri facevi la mostra la vendevi capito oppure la vendevi in maniera diversa però ecco questa è la mia esperienza e poi qualcuno mi dirà io l'ho venduto i 50 che ti posso dire con la mia esperienza è un po' così poi al solito intanto li fai vedere ecco però considera che ci sono miliardi di siti ci mancano i puffi lì guarda il villaggio dei puffi però mancano le casette Giacomo dice che Sgarbi ha studiato filosofia gli pare sì sì ma te l'ho detto ma per esempio D'Averio D'Averio è ragioniere eppure insegna pure insegna anche per cui anche di D'Averio ti ho regalato libri sì D'Averio è già più comprensibile però una cosa è parlare io lo vedo una cosa è parlare raccontare una cosa puoi leggere la stessa cosa casomai però di Baudelaire come critico d'arte che ne pensi Luciano Baudelaire è stato un periodo tutto particolare il suo ciao ciao Alessandro è la prima live a cui partecipa ricordati di partecipare anche domenica prossima alle 5 che faremo una sorpresa ci sarà una sorpresa perché siamo arrivati a 23.000 23.000 faremo una cosina una diretta Baudelaire un grande dice Pasternak sì sì era scrittore poi è stato insomma è un periodo particolare per cui personaggio anche in particolare lui i fiori del male il fumo un fianile vuole pure il fianile no sembra un fianile perché ha fatto questi fienetroni grandi eh vabbè hai ragione anche Sezanne direi sì ragazzi al solito di pittori ce n'è tanti poi si può dire tutto il bene il male di tutti nessuno poi è stato perfetto ah vabbè pace volevamo fare qualche cosa di particolare no dice Alessandro che è un impegno vabbè iniziamo alle 5 se poi ce la fai a collegarti tanto alla fine poi staremo un paio d'ore non lo so fino a che uno regge un casca in terra sfatto maestro notato che i comignoli che fai li metti sempre allo stesso posto da questo ci va una montagna e questo a metà di una sì vabbè ma è un fumettino sta diventando no ma lo faccio per smaraccare un fumetto se no dice stai fermo Marco Tagliaferri Cristina dice Marco Tagliaferri non lo so io c'è un amico che si chiama Tagliaferri però fa fa il contadino fa un vino eccezionale però non so se è lo stesso non lo conosciamo Tagliaferri che sta giù cosa sta dicendo Cristina ora se no io parlavo del mio Tagliaferri questo Marco non lo so non li posso conoscere tutti ora se è una combinazione per esempio come il segno del comando cos'è di cosa parliamo è un titolo di un libro non lo so ora non mi viene è tardi sì ora comincio ad essere un po' sbarellato perché sai a parlare sempre ultimamente poi ho fatto questo po' di disegno ragazzi questo lo metto all'asta è che io affredo più il passo appartiene a una categoria superiore non beveva ma fumava tanto sì poi era che il personaggio è il celeberimo film del tv degli anni 70 no se mi parli di televisione poi c'è niente di televisione il segno del comando sì sì anche a noi piace davvero sì sì mi piace mi piace più come intrattenitore che non come scrittore non perché non scriva bene Marco Tagliafari era un pittore nel film non so che dirti Raffaele dice che Picasso era una sciupa femmina sì ha avuto tante Alessandro chiede se leggi fumetti no poche niente non sempre si no da ragazzo si leggi ma non sono mai stato un grande attenzione a Ponticelli a Ponticelli ultimamente ne stanno crollando ho cascato uno dove in Lunigiana adesso per la miseria visto meno male c'era solo meno male meno male per lui però insomma uno solo ma carinissimo bravo era iniziato con le montagne da non fare vedi si ma ho detto poi ti ci metti si si ti è mondo scrofalo questo è è un master è Andrea che continua a dire a Cristina che lo doveva comprare infatti lo doveva prendere lo dovevi prendere lo dovevi prendere che ne pensi della Gioconda Alessio del Totto si si che ti devo dire è un bel quadretto ma poi sai ma poi sai che una volta ho visto un film e la Gioconda l'avevano fatto su una tela cioè proprio sono rimasta male perché non sappiamo tutti che su una tavola però io ci rimasi male sai uno di quei quadri famosi che volendo o no lo vai a vedere ci stai tre secondi perché poi ti buttano fuori ma ce ne sono tanti quadri bellissimi che si poi la sua storia cioè tutto quello che ha visto ha toccato Leonardo anche se fosse stata una lattina di birra ragazzi ma quando è morto quando è morto Picasso visto che qualcuno l'ha nominato hanno sigillato casa sua l'hanno sigillata proprio sigillato non ne entrava più nemmeno i figli sono entrati lì dentro e hanno cominciato a catalogare ci hanno messo anni a catalogare tutto quello che c'era anche sono andate a svotare i cestini della monnezza sono andate a prendere le cicche hanno fatto una cosa impressionante perché l'aveva toccata Picasso era a casa sua casomai finché era vivo sì era una cicca buttata via da Picasso però era una cicca dal momento che è morto tutto è diventato museale per cui figuriamoci una cosa gli ha toccato Leonardo che se l'ha portato dietro l'unico quadro Chino Giuffre dice Achille Bonito Liva punto interrogativo che ti devo dire è stato un furbo anche lui per esempio non furbole sì ma furbole nel senso buono non pensai che ne parlo male anche lui non è che ha fatto studi anche lui mi pare ragioniere cos'è geometra con l'arte mi pare aveva poco a che fare e perché gli eredi litigavano? perché c'era un patrimonio non da poco perché avendoci avuto tante donne tanti figli diverse moglie ognuno voleva mettere il dentino che poi alla fine si sono dovuti accordare perché si si di Picasso l'avamo capito si 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 sono dovuti accordare perché è diventata una società Picasso hanno fatto una società si si perché allora tanto per fare la stupidà dire una stupidaggine sempre su Picasso via me l'avete chiesto in qualche maniera eh sì Fabrizio per i soldi per i soldi e non solo anche perché Picasso veniva continuamente sfruttato senza che le royalties venissero pagate da nessuno per esempio c'è la macchina cos'è la Citro e la Picasso la Picasso o la Picasso loro pagano per fare due milioni di euro l'anno soltanto per avere il nome lì sopra e c'hanno un contratto che gli era scaduto tempo fa Cristina dice che l'oliva si è inventato la transavanguardia ci ha vissuto di rendita per il resto della vita sì sì la transavanguardia con tutti i vesti napoletani cioè non soltanto napoletani aspetta c'era un ragazzo che aveva detto qualcosa sul canaletto Alessandro Manenti aveva detto che è personalmente innamorato di canaletto sì sì il canaletto usava spesso la macchina fotografica cioè non c'era naturalmente però la camera oscura sì quella sì si era inventata perché i disegni li facevano a mano e poi con la camera oscura si mettevano lì e rifacevano queste vedute questi canali è lì che è stata perfezionata per cui quando si dice a volte a Roma ne vogliamo parlare sì ma siamo sempre lì c'era un'eredità grandissima che poi l'eredità non era soltanto fatta di soldi addirittura il governo francese non aveva nessuna opera di Picasso ok e quindi si sono inventati la possibilità di pagare le tasse in quadri e hanno messo su un museo tant'è vero che gli erediti di Picasso non hanno pagato una lira in soldi però non hanno dovuto dare un so quanti quadri e il governo francese ci ha fatto un museo Picasso capito? e fecero proprio una legge apposta perché potessero gli erediti non soltanto di Picasso in generale potessero pagare le tasse in beni siccome Picasso non era uno sconosciuto non è che non valessero niente gli dettero questa facoltà per cui immaginati adesso non mi ricordo andrei a vedere qualche appunto gli dettero una 25-30 quadri ma di quelli buoni e quindi insomma ce n'è stato di di roba da prendere di succo da spremere lì insomma di cose ce ne sono tante su Picasso ma non soltanto su Picasso ma anche su tutte le donne che ha avuto intorno qualcuno si è suicidata qualcuno dai c'è il telefono scarico mi sa che eccoci di nuovo si può anche si può anche poi abbandonare il campo mi sa che comincia a essere il telefono scarico scarichissimo ha ripreso il soffitto il soffitto a cassonetto che ha fatto mio padre tantissimi anni fa non si vede quella quadritatura per aria perché qui sopra ci sarebbe erano bravi anche falsari eh il falsario forse è più bravo del pittore sì sì ma non è una battutaccia allora vediamo un po' Picasso prima di lasciare una fidanzata ne aveva già pronta una nuova ed è rimasto in buoni rapporti con tutte per forza notte Giacomo notte buonanotte a tutti e ora fra un po' facciamo sì poi dal comunista poi perché l'avevano preso come simolo poi ha preso ha ceduto tutto con la colomba che insomma è la storia risaputa poi ha preso le distanze da certe vabbè ma sai ci fu Guernica eccetera allora io vi ricordo che ci vediamo domenica alle 17 l'avevo segnato eccolo qui domenica ore 17 sì Loredana Loredana ciao buonanotte buonanotte a tutti un saluto a tutti grazie della compagnia grazie a tutti della compagnia ci siamo tenuti aggiornati su alcune cosette che casomai ci vediamo alla prossima diretta domenica alle 5 gli argomenti ce ne sono sempre tantissimi notte Francesco notte Endo Maddalena notte Marcello notte ciao a tutti buonanotte e ancora grazie 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 ciao ciao Maria Beatrice ciao Maria ciao Andrea Cristina notte si chiude vai buonanotte